Buongiorno a tutti, possiamo accomodarci? Possiamo chiamare il processo? Salvini Matteo è presente, Avvocato Giulio Buongiorno è presente, per le parti civili Proactiva Open Arms è assente, Avvocato Arturo Salerni è presente, Acambi Aminat è assente, Avvocato Mario Antonio Angelelli è presente, Basia Isioma è assente, Avvocato Mario Antonio Angelelli è presente, Ociuco Silvester è assente, Avvocato Mario Antonio Angelelli è presente, Lobuglio Rosalba nella qualità di tutrice volontaria di Nige Musa è assente, Avvocato Serena Romano Assente, sostituita per delegolare dall'Avvocato Maria Serena Ingrassia, Al-Ali Somar assente, Avvocato Irene Russo, sostituita per delegolare dall'Avvocato Giorgio Geraci, Anna Isabel Montes-Mier, Assente, Avvocato Gabriele Lipani, sostituito per delegolare dall'Avvocato Giorgio Geraci, Raig Creus Marc, assente, Avvocato Giuseppe Nicoletti, sostituito dall'Avvocato Gietano Mario Pasqualino per delegolare, Anocote Kingsley, assente, Avvocato Gietano Mario Pasqualino è presente, Sandai Endurance, assente, Avvocato Gietano Mario Pasqualino è presente, Osservatorio Antidiscriminazioni in Urredin Adnane, assente, Avvocato Gietano Mario Pasqualino è presente, Arci Sicilia, assente, Avvocato Michele Calantropo, sostituito dall'Avvocato Pasqualino, Giusta Delega Orale, Associazione Cooperazione Internazionale Sud Sud, assente, Avvocato Giorgio Bisagna, sostituito dall'Avvocato Pasqualino, Mediterranea Saving Humans APS, assente, Avvocato Fabio Gietano Lanfranca, assente, Associazione Nazionale Giuristi Democratici, assente, Avvocato Armando Sorrentino, assente, Associazione Accoglierete per la tutela dei minori non accompagnati, assente, Avvocato Corrado Giuliano, assente, sostituito dall'Avvocato Danila Ciancimino, per della canzone, associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, assente, Avvocato Giovanni Annaloro, presente, buongiorno, associazione Cittadinanza Attiva Sicilia, assente, Avvocato Eliana Maccarone, assente, sostituito dall'Avvocato Giovanni Annaloro, lega Ambiente Nazionale, assente, Avvocato Daniela Ciancimino, presente, lega Ambiente Sicilia, assente, Avvocato Daniela Ciancimino, presente, Comune di Barcellona, assente, Avvocato Mario Antonio Angelelli, presente, Godwin Igodaro, assente, Avvocato Silvia Calderoni, sostituita da me, Avvocato Mario Antonio Angelelli. Oniecuni, Fidelis, Sazuka, assente, Avvocato Silvia Calderoni, assente, sostituita come sopra, Emergency Life, assente, Avvocato Silvia Calderoni, sostituita come sopra, Comune di Palermo, Avvocato Giuseppe Natale, assente, Oria Fom Lorenz, Avvocato Francesco Robba, assente, sostituita per delegolare dall'Avvocato Giulia Vicari. Laubi El Medi, alias Labu Madid, assente, Avvocato Gabriele Lipani, sostituito per delegolare dall'Avvocato Giorgio Ageraci. Dobbiamo, in primo luogo, dare atto della diversa composizione del collegio, dell'esigenza di rinnovare il dibattimento e a tal fine si chiede alle parti se vi sono istanze richieste con riguardo alle prove fin qui assunte. Sì, il Pubblico Ministero chiede che ne venga dichiarata l'utilizzabilità con il nuovo collegio, quindi non chiede rinnovazione. parte civile. L'utilizzabilità delle prove è già assunte. No, 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 l'utilizzabilità, l'utilizzabilità. Quindi non ci sono richieste neanche dalle parti civili della difesa. Si associano alla richiesta. Si associano. Va bene. E allora il Tribunale ne prende atto e ribadisce le statuizioni fin qui adottate. Il processo veniva oggi per l'esame dei testi del Pubblico Ministero. Sì, Presidente, se cominciamo conto... No, Presidente, prima dovrei prendere la parola in relazione all'attività integrativa. Prego. È stata depositata nel corso dell'ultima udienza, anche se lontana, attività integrativa di indagine da parte del Pubblico Ministero. Devo rilevare che il Pubblico Ministero ha fatto questa richiesta di attività integrativa sulla base delle dichiarazioni rese dal Teste Mancini. Il Teste Mancini aveva fatto riferimento in relazione... Il Teste Mancini è il direttore del Servizio Immigrazione, della Direzione Centrale dell'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Aveva fatto riferimento all'esistenza, con riferimento al primo evento, di un video fatto da un sommergibile, di alcune intercettazioni e di una informativa. Il Pubblico Ministero ha inviato una richiesta al Comandante della Marina Militare per sapere se effettivamente esistesse il video, in tal caso quali fossero i nominativi dei militari che avessero realizzato il video. ed infine, leggo testualmente, chiedeva di riferire se il filmato, ov esistente ovviamente, fosse mai stato trasmesso all'autorità giudiziaria e a quale autorità giudiziaria. E le ragioni per le quali il video non è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Palermo o al Tribunale di Palermo, collegio dei reati ministeriali, nell'ambito delle indagini in corso nei confronti del loro Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. In esito a questa richiesta del Pubblico Ministero è pervenuta la risposta e viene rilevato che in realtà vennero fatte queste riprese audiovisive e fotografiche. Avvocato, mi scusi, questo attiene all'attività integrativa svolta. Al momento il Tribunale non è stato investito, almeno che io ricordi, di richieste o istanze. La sto facendo io la richiesta. Io l'ho avuta ora e quindi devo fare una richiesta. Quindi è una richiesta di acquisizione di quanto ho di ulteriori attività. Presidente, perché c'è un'attività talmente rilevante che secondo me doveva essere utilizzata tanto tempo fa. E quindi devo chiedere l'acquisizione ora perché mi serve per i testi. Vabbè, sentiamo l'istanza. L'istanza è questa, che in base all'attività che è pervenuta e che è stata depositata è il risultato che vennero fatte delle riprese audiovisive, che quindi sono depositate, e anche fotografiche. Sono state allegate delle dichiarazioni pure di Oliva, che è appunto il comandante che le aveva disposte. E infine si fa presente che queste evidenze in realtà erano state già trasmesse a tutta una serie di procure della Repubblica, magistratura ordinaria di Roma, e poi fa l'elenco di tutte le procure che hanno avuto il materiale, e tra queste anche Agrigento e Palermo. Nella nota si fa presente che addirittura sono state condivise le informazioni anche con la Direzione Centrale dell'Immigrazione in aderenza alle disposizioni vigenti, e come le dicevo, tutto questo materiale, che è materiale nel quale viene fotografato la condotta della Open Arms, questo materiale non è mai stato depositato, questo materiale, un materiale che dunque non è stato mai visionato, e non sfuggirà, credo, al Tribunale la rilevanza, perché ad esempio il Tar, che avrebbe dovuto valutare il passaggio, se è offensivo o non offensivo, di Open Arms, non ha avuto modo di esaminare questo materiale, che è un materiale dal quale si vedono una serie di condotte, che sono state considerate tanto anomale, da concentrarle in una informativa che è stata trasmessa a più procure. Questo materiale non è stato visionato nemmeno dal Senato, quando ha dato l'autorizzazione a procedere, non è stato visionato dal GUP, e non è stato visionato dalla Difesa, che ha fatto una serie di domande anche al Comandante e ad altri soggetti, cercando di evidenziare condotte anomale, ma senza poter disporre di questo materiale. Allora, che cosa chiede la Difesa? Intanto io chiederei che questo materiale, spero a questo punto col consenso del Pubblico Ministero, possa essere immediatamente acquisito al fascicolo del dibattimento, anche per consentire alla Difesa, almeno oggi, visto che vengono dei testimoni, in particolare anche la Trenta, che all'epoca era Ministro della Marina, Ministro della Difesa, o alla Ligori, che faceva parte proprio di questo reparto, sapere se conoscevano questo materiale. Comunque, siccome questo materiale è formato anche da alcuni file audio e video, a una presentazione in PowerPoint, e questi file sono delle conversazioni che sarebbero tra due soggetti, uno dei quali, a bordo presumibilmente della Open Arms, è un altro nelle vicinanze, chiederei anche la trascrizione, previa traduzione, di questi file, al fine di verificare di cosa si parlava. Chiedo inoltre, a questo punto, di sentire questo capitano di Corvetta, Stefano Oliva, che come emerge appunto da questa dichiarazione che è allegata, esegui queste attività in esame. E il capitano di Corvetta, Andrea Pellegrino, sulla base di una serie di elementi, ha provveduto a fare una relazione di servizio. Tutto ciò serve, signor Presidente, per chiarezza, perché ovviamente al Ministro Salvini viene contestato di non avere esitato tempestivamente il POS. La difesa ritiene che era stato fatto un legittimo divieto di transito sulla base di una serie di informazioni dalle quali emergevano delle anomalie. Finora si è detto che quelle anomalie non c'erano, questa documentazione fa emergere a nostro avviso le anomalie, ci sono dei file audio nei quali sembra che ci sia un'intercettazione interessante, alla luce di questo io chiedo allo Stato l'acquisizione di tutto questo, a udire i testi e mettere subito a disposizione questo materiale che mi potrebbe essere utile per l'esame odierno, e poi chiedo appunto, e sia affidato ovviamente a un perito trascrittore, la trascrizione di questo file. Io ho cercato di sentirlo e anche di tradurlo, ma è giusto che facciate voi la traduzione, perché la lingua è spagnola. Va bene, su questa richiesta la Procura? Presidente, la Procura ha acquisito questo materiale e l'ha messo immediatamente a disposizione della difesa, tant'è che ne ha dato attività integrativa. In relazione al materiale, noi abbiamo già predisposto qui per il Tribunale se c'è il consenso per l'acquisizione del materiale audio e video, per tutto il resto riteniamo che si debbano eventualmente sentire i testi. Chiaramente non si possono acquisire le relazioni trattandosi di attività su cui possono appunto riferire i relativi testimoni. Il materiale audio e video è qui a disposizione, se c'è il consenso lo possiamo depositare anche subito, l'abbiamo già pronto. Ma in spagnolo, in italiano? No, questo è il materiale audio e video, io non ho capito questa cosa delle intercettazioni di cui parla lei. Ci sono, c'è questo disco... Questi non li abbiamo qui, abbiamo questo, il materiale audio e video. Scusi, avvocato, video e foto, sbagliato. Allora, questo che hanno loro è, credo, una presentazione Powerpoint. No, no, questo è il materiale video e le fotografie. Il video e le fotografie. Sì, c'è anche la presentazione Powerpoint. Però a me interesserebbe anche, intanto acquisire un po' tutto, perché credo abbia senso, anche questa interlocuzione che c'è stata, anche il fatto, a me interessa, che resti agli atti, che questo materiale, che a mio avviso è dimostrativo di una condotta dell'ONG, nessuno l'ha potuto finora conoscere. Ma a parte questo, c'è anche un file audio, in lingua spagnola, nel quale, secondo l'informativa, ci sarebbe uno scambio di comunicazioni tra un soggetto a bordo dell'ONG e un soggetto nei paraggi. Ecco, se io l'avessi avuto prima, avrei chiesto al comandante. Questo è contenuto nel video? No, è un file audio che hanno depositato loro. Presidente, noi ribadiamo il concetto. Non appena la procura ne è venuta in possesso, lo ha acquisito e lo sta depositando. Quindi non ritengo ci sia nessuna valutazione, tant'è che l'ha trovato la procura, questo audio, questo video. Abbocato, pubblico ministero, a proposito di questo file audio, dico, risulta che tra le acquisizioni... Ci sono due file audio, ci sono anche quella. Ci sono due file audio anche. Noi intanto chiediamo di produrre il materiale video e foto, perché la signoria vostra ben ricorderà che i testi sono venuti a dire che la nave era in perfette condizioni di navigazione ed era in grado di tenere le 70-80 persone che c'erano a bordo. Quindi da questo video e da queste foto si vedrà qual era la condizione della nave, se era possibile o meno che tenesse 70-80 persone. Il Tribunale vorrebbe sapere, con riferimento alla richiesta o all'istanza della difesa di trascrizione di questi file audio? Si, si rimette la decisione del Tribunale, non c'è nessuna opposizione. C'è opposizione all'acquisizione di qualunque relazione di polizia giudiziaria, potremmo sentire i testi sul punto. Il materiale video è fotografico, le slide... Sì, ma io non ho qua il cibo per vedere se in quello è la copia integrale del cibo della Marina. Quanto riguarda i testi... E le parti civili su queste istanze? Noi condividiamo le posizioni del Pubblico Ministero. Sì, sì. Quindi si associano a posizioni del Pubblico Ministero. Presidente, mi scusi, io sono l'Avvocato Nicoletti per Mark Ray Creus. Può dare la mia presenza che non c'era all'inizio dell'udienza? Ne diamo la... Ne prendiamo la... Grazie. Il Tribunale si ritira in Camere del Consiglio. Presidente, scusi, io avrei il file audio. Ho fatto una copia dal Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero comunque ha detto che effettivamente questi file audio ci sono. Magari si può indicare quello cui ha maggiormente interesse. Sono brevissimi, sono brevissimi due. Si fa subito, si fa in mezz'ora. Va bene. Il Tribunale si ritira in Camere del Consiglio. Già l'Irò. Allora il Tribunale, sciogliendo la riserva, dispone l'acquisizione della documentazione offerta in produzione dalla difesa dell'imputato, santo il consenso raggiunto dalle parti, e dispone altresì la trascrizione, quindi perizia intrascrittiva, sul file audio. Acquisiti nel corso dell'attività di indagine disposta dal Pubblico Ministero. A proposito di questi file audio, il Pubblico Ministero ha detto che non sono contenuti in quel cd. Nel cd non ci sono, li abbiamo a parte. Quando metterà il perito, o glieli possiamo anche dare fuori. Li metterà a disposizione del perito. Una volta che gli verrà conferito l'incarico, cosa che avverrà alla prossima udienza, è nominato perito il dottore Bellomare, Giacomo Bellomare, ammette anche i testi indicati dalla difesa dell'imputato. A proposito di questi testi, il Pubblico Ministero mi pare che abbia detto che ritiene opportuno che siano sentiti piuttosto che vengano acquisite le relazioni. Sì, Presidente. Noi chiediamo che vengano sentiti i testi indicati nelle relazioni servizie. Che le relazioni vengano acquisite dopo l'esame dei testi? Sì, poi lo possiamo valutare. Sono relazioni di polizia giudiziaria, non sono relazioni tecniche, sono delle note di polizia giudiziaria. Ho capito. Per quanto riguarda quindi i testi, poiché la richiesta è stata fatta dalla difesa, il Tribunale vorrebbe capire se inserirli tra i testi della difesa e quindi sentirli a seguito dell'esame. Non sono nostri testi, Presidente. Allora, secondo quello che è l'ordine previsto dal codice. Allora, il Tribunale ammette anche i testi. Ma io ho capito. I nomi dei testi, scusi, Presidente. Ma non l'ha messa, scusa. Non ha detto che l'ha messa. No, io penso che abbia messo solo gli audio e i video. Presidente, mi scusi. Per scaso di equivice, per quanto riguarda, sì, abbiamo detto acquisiamo la documentazione offerta alla difesa facendo riferimento al fatto che comunque il Pubblico Ministero aveva condensato tutta questa attività richiesta nel CD. L'ho capito? Ma io mi pare di aver... No, no, allora, scusate. La mia nota, che è questa che ho dato, non evitare qui, è una nota con l'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero che è comprensiva di la richiesta del Pubblico Ministero, la risposta che viene data da parte della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, le dichiarazioni di Oliva, perché ci sono proprio le dichiarazioni, file audio, presentazione in PowerPoint, relazione di servizio. Se il PM si oppone a una parte di questa documentazione, io invece la sto per chiarezza, per evitare equivocci, lì c'è tutto. Ho capito, va bene. Noi abbiamo acquisito praticamente tutto, fatta eccezione per quanto riguarda le relazioni di servizio sulle quali non c'è il consenso. Quindi gli audio, cioè i video e le foto, fondamentalmente. I video ci sarebbero? I video ci sarebbero? I video c'è? E il carteggio, diciamo. No, carteggio, presidente, carteggio, non c'è un carteggio. No, il carteggio c'è, io lo voglio acquisire. È in relazione alla richiesta di attività integrativa di indagine e quelli che sono stati gli esiti di questa attività. Ma il carteggio ci sono i testimoni sul carteggio. Ecco, presidente, il carteggio è la risposta. No, no, ma perché ognuno dice qualsiasi cosa? Per quanto riguarda le dichiarazioni del testo Oliva, abbiamo detto che lo dobbiamo sentire, se non ho capito mai. Presidente, a me interessa un dato storico. Il dato storico è questo, che soltanto a seguito di una richiesta del pubblico ministero in cui si diceva perché non mi hai mandato una cosa, gli è stato detto io te l'ho mandata. Questo mi interessa, forse è utile che ci sia, che ha una serie di procure. Scusi, avvocato, però la risposta che dice lei è così congegnata, perché se no il Tribunale giustamente non... Capitano di Corvetta Stefano Oliva, dichiarazione spontanea riguarda le... Ma questo non è un carteggio, questa è una dichiarazione in cui il testo ci deve venire a dire queste circolazioni. Non è un carteggio. Cioè, se vuole lo mostriamo al Tribunale. Non ho capito che cosa... Allora, presidente, il carteggio è, in riscontro a quanto richiesto da Codesta Aspettabile Magistratura si fa riferimento nell'evento in argomento l'unità subacquea della Marina sommergibile venduti ha fatto questo, questo e questo. In merito alla vostra richiesta, in merito alla vostra richiesta del perché non vi ho mandato tutta questo, vi dico che vi sbagliate perché vi ho mandato tutto. Ma questo ce lo deve venire... Noi vogliamo sentire il test che ci venga a spiegare tutta questa circostanza. Siccome, presidente, tra l'altro, a una serie di testi è stato esempio del Ministero degli Interni è stato detto com'è che sapete queste cose? Voi non potreste saperlo. Qui risulta che tutti sapevano tutto tranne noi della difesa. Eravamo gli unici a non sapere. Anche la Procura della Repubblica. Però era stato trasmesso alla Procura della Repubblica e risulta anche, presidente, credo che sia utile un po' per tutti una serie di note con le date e i timbri delle date in cui sono state spedite a una serie di procure. Cioè, Avvocato, mi scusi, io non capisco. Quanto sta riferendo lei, Avvocato, dove lo troviamo in questa nota che ha presentato? Mi scusi. Numeri 1 e 2 dovrebbero essere. 1 e 2. Presidente, c'è pure la tabella, visto che su questo punto vedo che c'è... Prego. Questo è quello. È stato un riscontro a quanto è un riguardo? Certo. E poi ce ne sono gli allegati. Ma questo è un documento. La comandata, ma chi deve essere arrivata? Certo, lo chiediamo. La risposta è stata la risposta. Con riguardo a questa risposta che sarebbe stata data... Sì, e poi, Presidente, c'è anche... Non so se ha visto l'elenco, che credo sia rilevante, di tutte le procure che hanno avuto possibilità di vedere questa documentazione. Diciamo, allora, per quanto riguarda questa risposta, eccetera, il Tribunale la trattiene in visione. E si riserva di decidere sulla posizione all'esito dell'esame del contramigliario Francesco Caputo. Di questo ha chiesto l'avvocato. Ha chiesto anche l'esame di questo ufficiale. Questi due sono. Perché uno ha fatto la relazione di servizio Pellegrini, è uno... Pellegrino. Pellegrino? Francesco Caputo? No, Caputo. Caputo non lo trovo. Dovrebbero essere... Stefano Oliva, che è capitano di Corvetta. E quello che ha fatto la relazione, le dico chi è. Andrea Pellegrino. Dovrebbe essere Pellegrino, ma ora glielo dico. Sì, Caputo è colui che ha scritto la risposta alla Procura della Repubblica. Ma noi, questa... Sì, questa qui, questa è la risposta che vi ho mandato. Su questo non c'è... Pellegrino è l'altro test. Pellegrino ci interessa perché ha ricostruito tutti i fatti. È d'oliva. È d'oliva, va bene. E allora, invece, e si riserva dell'acquisizione di questa parte della documentazione all'esito dell'esame dei testi. Presidente, visto questa tematica dell'attività integrativa di indagini, noi l'avremmo sollevata a fine udienza per sentire prima i testi. Perché noi abbiamo dato atto, abbiamo dato questo deposito due udienze fa che poi sono saltate per vari motivi. Ora, non so se lo ritiene opportuno perché noi abbiamo dato ugualmente atto alla difesa contestualmente a tutto il materiale che dopo averlo ricevuto la Procura della Repubblica ha dato un incarico di consulenza sul materiale fotografico e video in relazione all'avente ad oggetto il natante, le condizioni di stabilità, le condizioni di sicurezza, eccetera. Ed è chiaramente, noi chiederemo poi di sentire i testi consulenti che abbiamo nominato e eventualmente all'esito deposita la relazione. Quindi non so se lo vogliamo fare ora, lo anticipiamo ora, visto che ormai abbiamo aperto questo argomento. Facciamo l'ora così, poi passiamo all'esame dei testi. La difesa l'ha già vista perché era un deposito unico. Allora, su questa richiesta del Pubblico Ministero, le parti civili innanzitutto si associano? No, ha detto le parti civili. Parti civili si associano? I civili si associano alla richiesta del Pubblico Ministero. La difesa? No, la difesa... Presidente, allora, la difesa nulla osserva. È chiaro che se diventano testi del Pubblico Ministero si faranno prima e dopo faremo i nostri. Probabilmente va a più senso sentirli tutti insieme e mi rimetto al Tribunale per l'ordine. Non abbiamo problemi, purché ci sia tutto il materiale a vostra disposizione. Se c'è l'accordo delle parti si può vedere di trattare, diciamo, questo aspetto sentendo sia i testi indicati dalla difesa che i consulenti del Pubblico Ministero dedicare... Di Colone anticipiamo la richiesta, comunque sono i testi l'ingegnere Magazzù e l'ingegnere Megna. Perfetto. La sentiamo? Sì, me l'ho confermata. Sì, sì. E quindi ammette anche le prove indicate dal Pubblico Ministero. Pubblico Ministero, tornando alla questione precedente, perché noi abbiamo detto acquisisce la documentazione offerta in produzione della difesa, ma facendo riferimento al fatto che questa produzione fosse quella contenuta nel CD... Nel CD ci sono solo i video, le foto e queste slide fatte dalla... Che comunque sono presenti anche qua, in questo... La mia è una documentazione più completa, quella del PM era solo il disco che li vedrà. La mia è comprensiva di disco, file audio che oggi non è nella loro disponibilità, note di trasmissioni e relazione. Acquisiamo anche il CD del pubblico ministero, così anche per comprendere un po' meglio qual è esattamente la parte che è acquisita col consenso di tutte le parti, invece quella che rimane ancora subiudice. Quindi con il consenso solo il video e le foto fondamentalmente, poi il resto lo vedremo all'esito delle deposizioni. E il resto ci si riserva... e i file audio, naturalmente. E i file audio, certo. E i file audio, che comunque devono essere trascritti. Possiamo andare avanti con il file audio che il Pubblico Ministero dovrà depositare in cancelleria per dar modo alla prossima udienza di... Ma l'ha già depositato la licenza? Non li ha depositati? No. Ma li depositiamo pure noi, comunque, Presidente, non c'è problema. Non ci sono, non ci sono. Possiamo andare avanti con l'esame dei testi? Presidente, ci sarebbe una richiesta di produzione, partecivile, legambiente, relativa proprio all'audizione dei testi Toninelli Danilo e Trenta. Chiedo di produrre per legambiente un video, quindi una pendravi contenente un video, una videointervista rilasciata ad Ala News il 31-7-2020 dal allora senatore Toninelli, che dichiara e si vede in video, quindi diciamo non c'è problema di smentita, quali erano le situazioni e i rapporti tra i ministri Toninelli, Trenta e Salvini proprio al momento in cui fu emesso il decreto e si chiedeva di emettere il nuovo decreto di vieto. Questo perché appunto c'è, da parte della difesa, c'è stata una linea, c'è una linea difensiva che parla appunto di una concertazione politica del governo relativamente alle decisioni che furono prese relativamente al POS, al decreto, all'impugnazione del decreto. Questa videointervista, oltre a essere contenuta nella pendrive, è scaricabile tranquillamente da tutti anche ieri in un link che io ho indicato ed è presente su Youtube. E poi un articolo pubblicato dalla Repubblica il 15 agosto del 2019, quindi proprio nei giorni in cui avvengono i fatti di qui al processo, che riporta le dichiarazioni della ministra Trenta, del ministro Toninelli, alcune anche poi del ministro Salvini, ma noi per quello che interessa i testi che abbiamo sentito è che parlano delle motivazioni a caldo per le quali non firmarono il secondo decreto di vieto. Quindi siccome io intendo ovviamente porre queste domande ai testi, chiedo, l'intervista ce l'ho stampata, ma c'è anche un link sempre consultabile in qualunque momento si voglia prendere su internet. E ho anche fatto la trascrizione per evitare, comunque la pendrive è qui, ho anche il computer, ho anche fatto la trascrizione della videointervista del senatore Toninelli. Su questa istanza le altre parti civili aderiscono, si associano, il difeso, il diputato. Sì, Presidente, anch'io ho una serie di post Facebook dell'ex senatore Toninelli. Credo che avevamo deciso che poi via via che producevamo poi li davamo a voi, oppure volete fare una produzione preventiva? Cioè, prima li esibiamo e poi li diamo, di solito ho fatto così finora con voi. Come volete. Sì, ma dico sulla richiesta. No, no, non osservo nulla perché anch'io ho da produrre e ribadisco che anch'io produco. Io normalmente sottopongo e poi produco, tutto qui. Se invece vuole adesso produco anch'io e non ho osservazioni sulla richiesta della parte civile. Va bene, il Tribunale allora dispone l'acquisizione della documentazione offerta in produzione della parte civile. Possiamo introdurre il test? Presidente, mi perdoni, ultima interruzione. Avvocato Romano, sono arrivata adesso, volevo il CSA, atto della mia presenza per favore, anche in sostituzione dell'Avvocato Lanfranc. Con chi iniziamo il pubblico ministero? Si è arrivata con la dottoressa Trenta, Presidente. Dottoressa, Ministro, Elisabetta Trenta. Sicuramente Elisabetta Trenta lo è. Buongiorno Presidente, scusi per il ritardo, sono l'Avvocato Calantro, per l'Arci Sicilia. Grazie. Viene sentita come test, è all'obbligo di dire la verità, il nostro ordinamento prevede delle sanzioni severe nei confronti dei testi falsi e reticenti, dovrebbe leggere quella formula con la quale si impegna a dire la verità, voce alta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Perfetto, ora si può accomodare? Grazie. E sempre al microfono, dovrebbe coltesemente fornire le sue generalità al Cancelliere. Nome e cognome? Elisabetta Trenta. Nata? Nata a Belletri, il 4667. Perfetto, grazie. Il Pubblico Ministero ha chiesto il suo esame, può procedere? Sì, grazie Presidente, buongiorno. Buongiorno. Lei chiede innanzitutto di riferire al Tribunale lei che in carico ricopriva all'epoca dei fatti, quindi nell'agosto del 2019. Ero Ministro della Difesa. Perfetto, abbiamo acquisito anche per il Tribunale le dichiarazioni che lei ha reso al GUP di Catania all'udienza del 12 dicembre 2020 per il Tribunale e il documento 55 della nostra produzione documentale. Quindi andrò subito ai fatti che riguardano l'oggetto dell'odierno processo. In particolare con riferimento al divieto di ingresso nelle acoterritoriali italiane emesso nei confronti della nave Open Arms il 1 agosto del 2019, le chiedo se ci può riferire come siete arrivati all'adozione di questo provvedimento, se ci sono state delle interlocuzioni fra voi Ministri firmatari di quel divieto e di che tipo. Per quanto mi riguarda io ricevevo soltanto il decreto da firmare e il decreto era firmato dal Ministro della Difesa e dal Ministro delle Infrastrutture per competenza, ovvero nel mio caso la competenza del Ministro della Difesa era verificare che non si trattasse di una nave militare perché questo era stato escluso dalle possibilità di fermo delle navi delle ONG e questo era il mio ruolo, non c'era un ruolo di decisione rispetto a delle decisioni che erano del Ministro dell'Interno. Quindi chi ha deciso l'adozione di questo divieto di ingresso? Per quanto mi riguarda il Ministro dell'Interno perché era una sua competenza. Per quale ragione era prevista la controfirma del Ministro della Difesa l'ha appena illustrato? Qual era il presupposto di questo divieto di ingresso? Il divieto di ingresso nel momento in cui è stato concepito doveva essere un atto che scoraggiasse le organizzazioni non governative dal decidere di arrivare direttamente sempre in Italia. Ed era, concepiva però una multa per le organizzazioni alle quali dopo aver ricevuto comunque il divieto di ingresso decidessero comunque di entrare nel territorio. E quindi di violarlo? Però la prima volta era un'ammenda, la seconda volta era il sequestro di una nave. Non concepiva nulla di più di questo. Vi risulta che l'Open Arms ebbe mai a violare questo divieto di ingresso? In quel momento, io non ricordo i casi, se c'erano stati altri casi precedenti. No, no, in quella vicenda dell'agosto 2019. No, in quella vicenda è stato dato il divieto di ingresso e basta. Si legge nel provvedimento che ha acquisito agli atti che il presupposto alla base era che l'Open Arms potesse integrare un'ipotesi di passaggio non inoffensivo. Se lo ricorda? No, sinceramente no. È proprio scritto nelle ragioni del divieto di ingresso. Si ricorda per quale ragione fu ritenuto che l'Open Arms potesse integrare un'ipotesi di passaggio non inoffensivo? Sinceramente no. Sulla base delle vostre fonti di intelligence avevate notizia, contezza della presenza di terroristi a bordo dell'Open Arms o di altri soggetti comunque pericolosi per le ragioni di sicurezza dello Stato? Non era nelle mie conoscenze, poteva essere semplicemente nelle conoscenze del Ministro dell'Interno e chiaramente non era detto che io dovessi saperlo. Però il problema dell'Open Arms è stato il numero dei giorni per i quali è stato fermato lo sbarco. Ora ci arriviamo. Dopo la decisione del Tar del Lazio che il 14 agosto 2019, quindi due settimane dopo rispetto al divieto di ingresso del 1 agosto 2019, sospende il divieto di ingresso. Il Ministro Salvini le trasmise un secondo divieto di ingresso analogo al primo che era stato sospeso dal Tar del Lazio? Sì. Lei che cosa fece? Io rifiutai di firmarlo perché ritenni che valesse ancora di più la decisione del Tar del Lazio perché comunque erano passati altri giorni e la situazione a bordo era peggiorata ancora di più e poi era una reiterazione di un decreto già annullato, immotivata e senza che fossero intervenute altre novità, se non novità peggiorative rispetto alla vita di chi era a bordo. Lei come ha ritenuto dal suo punto di vista tecnico l'operato in quella circostanza del Ministro Salvini? Io credo, questa è un'opinione personale ovviamente, allora si impone alle opinioni personali. No, la sua valutazione, dato che lei ha reso delle dichiarazioni sia al gruppo di Catania che alla stampa, la sua valutazione tecnica dal punto di vista di Ministro controfirmatario che si è rifiutato di firmare questo secondo provvedimento, ovviamente qual era la sua opinione dal punto di vista tecnico di Ministro in carica all'epoca? che non sarebbe stata quella una misura sufficiente per ottenere una maggior collaborazione da parte dell'ONG, per arrivare al risultato che era condiviso sì da tutti, che è quello di garantire un controllo, una gestione migliore dell'immigrazione ed evitare che anche le navi delle organizzazioni non governative pur inconsapevolmente potessero diventare uno strumento utilizzato in alcuni momenti dalla tratta. Lei il 12 dicembre del 2020, sentita dal gruppo di Catania, ha riferito se fossi stata Ministro dell'Interno non avrei tenuto quel comportamento non ritenendolo corretto ma ritenendolo eccessivo. Ci può spiegare questa sua affermazione? La confermo, ritengo, che le nostre battaglie giuste non debbano ricadere sulla vita dei più fragili e che ci siano dei diritti umani che vadano sempre, sempre, sempre rispettati. Qual era secondo lei la decisione che doveva essere assunta in quel momento con riferimento alla situazione dell'Open Arms? Seppure ci fosse stata una minaccia di terrorismo si poteva far sbarcare immediatamente le persone, assisterle e nel frattempo fare tutte le verifiche del caso. Con riferimento ai minori a bordo della Open Arms, lei ha interlocuito in qualche modo? Quali sono state le sue posizioni sul punto? Ha interlocuito anche con il Ministro Salvini? Ho cercato di interlocuire con tutti perché dal momento stesso in cui ho ricevuto informazione da parte del Tribunale dei minori dell'esistenza a bordo di molti minori, adesso il numero mi pare che fossero 26 non accompagnati, mi sono preoccupata soprattutto per loro e dopo non essere riuscita a parlare con il Ministro Salvini, ho parlato comunque con Di Maio, con Toninelli e con Conte dicendo che avevo deciso di inviare, di chiedere al Capo di Stato Maggiore della Difesa di dare l'ordine alla Marina di intervenire per poter effettuare il trasbordo dei minori. Questa era una cosa che doveva essere fatta molto velocemente perché il mare era forza 4 in quel momento e tendeva a crescere e quindi operamo in questo senso, poi in realtà il mare era diventato troppo grande per poter effettuare il trasbordo, per cui le navi seguirono la Open Arms pronte ad intervenire anche in una situazione che non era più una situazione di sicurezza però per accertarsi che tutto stesse andando per il verso giusto. Qual era in quel momento la situazione dell'Open Arms sulla base dei dati a vostra disposizione? Io non sono mai stata sulla Open Arms e quindi ho letto quello che c'era scritto nei report con delle situazioni di persone psicologicamente provate non per ultimo anche il mare che non era in buonissime condizioni diciamo così e anche con tanti giorni di soggiorno obbligato sulla nave. A chi spettava la decisione finale in ordine all'autorizzazione, allo sbarco e alla designazione di un post, di un place of safety per la Open Arms? Al ministro dell'interno? All'epoca Matteo Salvini. Non ho altre domande, grazie Presidente. Le parti civili devono imporre domande? No, io ho semplicemente questo, produrrei un documento, sono l'avvocato Salerno di Open Arms. Per ora con le domande. Sì, ma mi riferisco a un documento che poi chiederò di produrre. Quando lei dice che avevamo avuto una segnalazione da parte del Tribunale per i minorenni di Palermo si riferisce alla nota 8 agosto del 2019 a firma della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori e del Tribunale per i minorenni, cioè a firma congiunta del Procuratore per i minorenni e del Presidente del Tribunale facente funzione? Sì, è l'unica segnalazione che avevo. Aveva avuto una segnalazione. Che cosa le veniva richiesto all'interno di questa indicazione e segnalazione? Esattamente non ricordo, ma si parlava della presenza a bordo, di un certo numero di minori, di cui la maggioranza, la grande maggioranza, minori non accompagnati. Non ricordo se fosse scritto nella lettera o lo avessi letto al momento in cui l'abbiamo ricevuta, comunque si segnalava anche la presenza di due neonate di nove mesi, di cui una aveva problemi, credo, respiratori, e si chiedeva di far sbarcare immediatamente i minori. Ricorda se, per caso, se nella nota era stato richiamato l'articolo 19,1 bis del Decreto Legislativo 286 che impone il divieto di respingimento alla frontiera o di espulsione dei minori stranieri non accompagnati, riconoscendo loro invece il diritto ad essere accolti in strutture idonee? Presidente, in teoria sono domande suggestive. No, se ricorda questa... sta sul documento che adesso produco. Se è sul documento... Se ricorda questa cosa... Io non lo ricordo, ma insomma ricordo che la lettura... Non è irrilevante la domanda, ponere avanti, Avvocato. Sì. Ci sono altre domande? Non so se... non ho sentito la risposta, le chiedo scusa. Non è ammessa la domanda. Ah, non è ammessa. No. Il fatto che lo ricordi o meno, non lo riteniamo... Va bene. Io chiedo di produrre la nota a cui ho fatto riferimento, se non ci sono opposizioni delle parti. Su questa richiesta di produzione le parti... Ma, Presidente, mi sembra che ci sia già però questa nota. C'è, c'è. Certo, certo, c'è. E la nota del Tribunale dei minori... La cosa è quella di udienza per udienza acquisiamo... E' già gli atti dalla prima udienza su produzione del piemine. Sì, sì, se lo ricordo anche io. Ma di volta in volta le ridiamo. Lo ricordo anch'io, così viene facile anche ripercorrere le udienze. Presidente, un'integrazione alle richieste del collega Salerni. Sono l'Avvocato Mario Antonio Angelelli per la parte civile. Mi perdoni, quindi per precisare, questo provvedimento a firma congiunta, Presidente del Tribunale per i minori, procura presso il Tribunale per i minori, le viene recapitato quando la Open Arts ancora non è entrata nelle arpe territoriali. O era entrata o non era entrata. Se si ricorda, ovviamente... Non me lo ricordo, non me lo ricordo. Purtroppo non me lo ricordo. Va bene. Ci sono altre domande? Sì, Avvocato Sorrentino, parte civile. Dottoressa, a proposito di questa nota del Tribunale dei minori di Palermo e della Procura dello stesso Tribunale, lei ha detto che ricevendola ha cercato di parlare con il Ministro Salvini, non l'ha potuto, non ci è riuscita, le ha parlato con Toninelli, Di Maio e Conte, mi pare, che abbia detto. E cosa chiedeva loro e cosa loro eventualmente le disse o le risposero? Io ho comunicato loro la mia decisione di operare in questo senso e non ho trovato nessuna opposizione. Ma operare in che senso? Di dare l'ordine attraverso il Capo di Stato Maggiore della Difesa alla Marina perché di andare a prendere i minori sulla Open Arms. E ricorda la data all'incirca, perché la nota del Tribunale dei minori è dell'8 agosto? Credo che fosse qualche giorno dopo, forse una settimana dopo, perché ricordo che era durante il viaggio che c'era stato a Genova, per il ricordo delle vittime di Genova, del crollo del ponte, quindi era forse una settimana dopo. Quindi prima dell'emissione dell'ordinanza del decreto cautelare del Tarlazio? Sì, era prima del decreto del Tarlazio. Quindi prima del 14 agosto? Sì, credo il giorno prima. Senta, lei all'udienza di Catania, la cui data ha indicato il Pubblico Ministero, ha parlato dell'operazione SOFIA per la quale ha cercato di resistere perché continuasse a vivere. Perché? Perché l'obiettivo di SOFIA era quello di arrivare a rompere la tratta degli esseri umani. Quindi l'obiettivo della nostra presenza era quello di anche, soprattutto nella seconda parte, dopo che fu creata la Crime Information Cell, era quello di riuscire a comprendere come avveniva tutta la rotta del traffico degli esseri umani e di contrastarla. e SOFIA consentiva anche di venire a conoscenza di molte informazioni perché anche attraverso le persone che venivano salvate, perché nel momento in cui avviene un salvataggio in mare, subito dopo, c'è una grande disponibilità di coloro che sono stati salvati a raccontare e le informazioni che possono essere raccolte in quel momento sono ben diverse da quelle che possono essere raccolte nei giorni successivi e questo stava cominciando a dare dei grandi risultati. Purtroppo poi, anche sotto il peso della politica che era stata avviata, alla fine SOFIA è stata abbandonata perché siamo stati costretti a tenere le navi lontane, in qualche modo, anche per la pressione di altri paesi che erano in SOFIA e che andavano in questa direzione e quindi poi è stata sostituita con una missione che invece aveva un ruolo ben diverso e che non poteva dare in quel momento risultati nei confronti della lotta all'immigrazione clandestina. Mi pare infatti che giustamente oggi si stia pensando di far partire finalmente la terza parte dell'operazione SOFIA. Non so se sarà possibile, visto che SOFIA come operazione non esiste più. Quindi nell'agosto del 2019 non c'era più SOFIA? No, c'era ancora, ma non era più funzionante. Di fatto gli altri paesi ormai si rifiutavano di mettere a disposizione le loro navi o i loro mezzi anche elicotteri e aerei per tenerli poi lontani effettivamente dalle coste libiche perché era lì che avveniva l'attività maggiore che si doveva svolgere. Scusi avvocato, un secondo soltanto. Lei ha fatto riferimento ad informazioni che potevano essere acquisite con maggiore profitto attraverso questa operazione SOFIA, eccetera. Ma che tipo di informazioni ha fatto? Informazioni fornite proprio da coloro che venivano salvati e che quindi erano a conoscenza quantomeno dell'ultima parte del percorso dell'organizzazione della tratta. Non potevano conoscere, non è detto necessariamente quella prima, però potevano essere delle informazioni preziose per ricostruire gli accordi che arrivavano. I percorsi della tratta degli esseri umani poi sono gli stessi di tutte le aree dove non c'è diritto, gli stessi del terrorismo, gli stessi del commercio di droga. Quindi era molto importante avere a disposizione uno strumento di quel genere che tra l'altro ci consentiva di formare la Guardia Costiera Libica e voglio ricordare che la Guardia Costiera Libica non è tutta una, sono due e diciamo quella parte di Guardia Costiera con cui noi lavoravamo era formata anche sul rispetto dei diritti umani, sul rispetto di genere. ho avuto modo io stessa di vedere il lavoro che facevamo e stava portando dei risultati. Ovviamente sempre controversi perché comunque poi le persone tornavano in Libia ma cercavamo di assicurarci del fatto che laddove venissero ricondotti perché per la legge libica un migrante clandestino sta in prigione però potessero entrare i rappresentanti degli organismi internazionali come IOM e ONHCR che avevano la possibilità di andare a fare dei sopralluoghi. Perfetto, grazie. Scusi, Avvocato, prego. A proposito di terrorismo, la legittima preoccupazione, lei mi pare abbia fatto capire o detto che non era messa a conoscenza delle informazioni che poteva avere il Ministero dell'Interno, no, no, il Ministro dell'Interno, in base a quale principio, visto che il Ministro della Difesa ha anche un suo apparato di intelligence, poteva esercitarlo o c'era un problema di competenze separate o di conflitto di competenze? L'apparato di intelligence del Ministero della Difesa non è più lo stesso di tanti anni fa, nel senso che quello che è proprio interno al Ministero riguarda l'attività della difesa e riguarda soprattutto le aree all'interno delle quali ci sono le missioni internazionali. Ovviamente accede il Ministro alle informazioni che vengono da parte delle agenzie di sicurezza. Però ritengo possibile che un Ministro dell'Interno avesse ricevuto delle informazioni e immediatamente potesse reagire a queste informazioni pur non comunicandole, essendoci all'interno di un Governo, la fiducia reciproca nelle decisioni assunte. È chiaro che dovrebbero essere condivise. Sarebbe il need to share, mi pare. Sì. Perché è in inglese? Prego. Perché ne ha parlato in inglese la dottoressa, l'ex Ministro all'udienza a Catania. È vietato l'inglese. Io non amo l'inglese, però... Avvocato, non polimizziamo. È una polemica inutile. Ha compreso la domanda. Sì, sì, certo. Bisogna studiarlo. Il Ministro della Difesa ha alle sue dipendenze la Guardia Costiera? La Guardia Costiera è inserita nell'ambito del Ministero della Difesa, ma dipende funzionalmente dal Ministero delle Infrastrutture. Ma ci sono occasioni in cui la Guardia Costiera e il Corpo delle Capitanerie può rientrare funzionalmente e gerarchicamente all'interno del Ministero della Difesa? Non per quanto riguarda l'attività di search and rescue. Scusi, ho usato l'inglese. Non per quanto riguarda l'attività di salvataggio. Ah, ho capito. C'era un coordinamento, è un coordinamento continuo con la Marina, essendo la Guardia Costiera parte anche del Corpo della Marina, però funzionalmente per questa attività dipende da un altro Ministero. Nel periodo in questione per cui è processo, primi di agosto o 20 agosto, lei ha partecipato a qualche consiglio dei Ministri specificamente orientato sull'Open Arms? No, non ricordo, ma mi sembra di no. Ha avuto contatti con il Ministro delle Infrastrutture e il Ministro dell'Interno sempre sulla questione Open Arms, su come agire in concreto? No, non ci sono state riunioni di coordinamento. Va bene, grazie. Non a cui io abbia partecipato. Lei non ha partecipato. Va bene, grazie. Altri interventi? Se posso fare qualche domanda, Presidente, Avvocato Daniela Ciancimino per Rega Ambiente. Buongiorno, Dottoressa. Buongiorno. Ci risentiamo perché ero anche all'udienza a Catania per il processo Gregoretti. Ecco, lei ha parlato su domanda intanto del Pubblico Ministero del Procuratore relativamente al decreto del Tar del Lazio di passaggio non inoffensivo relativamente all'Open Arms. Può spiegarci meglio che cosa si intendeva o comunque avete inteso voi nel momento in cui avete predisposto il decreto e anche nel momento in cui lei ha ritenuto di non dover firmare un secondo decreto per passaggio inoffensivo. Che informazioni avevate sulla Open Arms e sui soggetti che erano a bordo e le loro condizioni? Non avevo informazioni sulle motivazioni del passaggio inoffensivo come ho detto prima, avevo le informazioni che venivano soprattutto dai mezzi di comunicazione di massa oltre che dalla lettera ricevuta dal Tribunale dei Minori di Palermo sulla situazione nella nave e come ho già detto ritenevo che pur in presenza di eventuali terroristi a bordo fosse necessario far sbarcare tutte le persone e magari sottoporle ad ulteriori accertamenti però avendo dato loro la possibilità di arrivare in un posto sicuro. Quindi vuole dire che non c'era necessità Il Presidente si oppone Secondo lei c'era necessità di trattenere per più giorni, dieci giorni, quindici giorni dei migranti a bordo Perché dieci giorni, quindici giorni? Sono venti Ci poteva essere una necessità di trattenere migranti a bordo nel caso anche di un sospetto di terrorismo anche di un solo soggetto? Il Presidente si oppone La domanda non è ammessa Volevo chiedere Lei ha appena detto che non aveva delle informazioni dirette delle condizioni e dei soggetti a bordo della Open Arms ma che aveva avuto delle informazioni dei mezzi di comunicazione di massa se bene ho capito Quali informazioni aveva avuto? Che ormai vivevano in una situazione psicologicamente e fisicamente molto difficile come era anche come è anche immaginabile soprattutto su una nave che ha imbarcato molte persone c'erano 160 persone più o meno a bordo mi sembra da tanti giorni e quindi non è difficile immaginare che cosa succede leggevo ovviamente anche quello che scriveva la Open Arms Ma lei di queste informazioni che riceveva dai mezzi di comunicazione di massa aveva modo visto che comunque doveva prendere delle decisioni sia quando ha firmato il decreto sia poi quando ha deciso di non firmarlo avrebbe avuto modo di poter accertare quali erano queste condizioni o fare riferimento dell'autorità dei soggetti che potevano dare delle informazioni più precise Quando ho firmato il decreto la prima volta non erano ancora trascorsi tutti quei giorni e l'ho firmato sulla base delle regole che ci siamo dati di una legge che è stata approvata e anche firmata dal Presidente della Repubblica e al quale ogni Ministro è obbligato ad adempiere la reiterazione invece era proprio qualcosa che non ho ritenuto neanche giusto dal punto di vista giuridico fare Lei si è consultata anche dal punto di vista che ha parlato dal punto di vista giuridico parlo soprattutto al momento in cui è preso la decisione chiamiamola più forte quella di non firmare il nuovo decreto che le veniva sottoposta dal Ministro Salvini Lei a questo punto ha richiesto una consulenza si è consultata con esperti anche giuridici della materia o no? C'è stato ricordo benissimo quella notte che è stata molto lunga quale notte scusi così la notte in cui poi decisi di non firmare che era l'ultimo momento in cui si doveva firmare il gabinetto stava lavorando il consigliere giuridico del gabinetto stava lavorando insieme a tutti gli altri anche interfacciandosi con il Ministero dell'Interno e poi io presi la decisione Ecco quindi lei ebbe un parere scritto legale ci fu qualcuno che le riferì delle ragioni legali del diritto internazionale il diritto del mare ci dica poi in concreto chi le ha dato un supporto per dire che non andava firmato un nuovo decreto un nuovo decreto di divieto Io ero convinta dall'inizio che non andasse firmato un nuovo decreto di divieto perché non si reitera in mancanza di novità delle quali io non ero al corrente non sono mai messa stata mai stata messa ufficialmente al corrente se ce ne fossero state un decreto con delle motivazioni che sono soltanto peggiorate con il passare dei giorni per cui quello era qualcosa che non andava firmato dal gabinetto mi dissero alla fine che non c'era nulla contro alla mia decisione Lei appunto ci ha detto che c'erano delle condizioni che lei riteneva addirittura peggiorative ma penso che si sta parlando condizioni che riguardassero i migranti che riguardassero i migranti certamente erano passati altri giorni quindi la situazione a bordo non poteva essere migliorata era soltanto peggiorata e allora quando le sottoposero o le sottopose il ministro Salvini questa nuova bozza per il divieto per un nuovo decreto di divieto per un nuovo decreto di divieto di ingresso quali sarebbero state queste ragioni aggiuntive quali ragioni aggiuntive c'erano rispetto al primo decreto in questa bozza Presidente io credo l'abbia chiesto parecchie volte però glielo chiediamo ancora una volta c'erano delle ragioni aggiuntive per me non c'erano ragioni aggiuntive ma al di là di quella che era la sua la sua opinione diciamo questa richiesta di firma di ulteriore decreto era stata corredata con l'indicazione di ulteriori situazioni che a mente di chi aveva ideato l'intenzione diciamo di riproporre il decreto potevano io questo non lo ricordo perché non ho avuto modo di rileggere recentemente quel decreto però in quel momento valutai che non ce ne fossero e che se ci fossero state non sarebbero state sufficienti per reiterarlo presidente io vorrei utilizzare il verbale di trascrizione reso all'udienza del 12 dicembre 2020 davanti al gruppo di Catania in cui fu sposta una domanda analoga e in cui probabilmente il ricordo era anche più fresco per rammentare insomma un po' il ricordo della ministra sulle giustificazioni aggiuntive che erano invece sembrerebbe anche da quello che ha detto lei indicata nel decreto se posso leggere brevemente la frase sulla domanda era questo la ricordo molto bene ritengo che nel momento in cui un tribunale amministrativo abbia ravvisato l'inesistenza delle condizioni per la firma di un decreto reiterare il decreto dicendo per esempio e quindi questa sarebbe che in realtà le condizioni sono cambiate perché sono aumentati il numero di migranti a bordo in realtà giustifica il fatto che la situazione di emergenza a bordo per il numero eccessivo di migranti è peggiorativa e quindi probabilmente per me la decisione di un tribunale si rispetta e non si deve reiterare il decreto quindi ricorda lei se questa giustificazione era data dal fatto che successivamente si è raggiunto un ulteriore numero di migranti cioè era aumentato il numero di migranti diciamo portati a bordo i migranti sono arrivati in varie fasi però io in questo momento se l'ho detto quella volta io avevo avuto la possibilità di rileggere il decreto adesso è passato tanto tempo però il senso di quello che ho detto rimane lo stesso certo certo non era per chiarirlo grazie sì ecco volevo ancora una volta chiedere sempre su queste ragioni del mancato mancata firma del successivo decreto lei ricorda se diciamo commentando pubblicamente la sua decisione perché fu una decisione come lei ci ha fatto capire forte di notte prese eccetera possiamo evitare i commenti nelle domande stiamo in attesa della domanda stiamo facendo la domanda c'è tutto un commento tutti facciamo commenti comunque lei ricorda se commentando questa sua decisione pubblicamente disse che questa era motivata da solide ragioni legali e che addirittura si potevano configurare violazioni di norme penali se si fosse reiterato questo decreto lei ricorda lo ricordo si si lo ricordo ha detto questo e quindi lei aveva avuto anche come consulenza legale questa parere cioè che il reiterare questo decreto avrebbe determinato anche delle violazioni di norme penali che come ho già detto avevo chiesto al gabinetto e al consigliere giuridico di verificare e verificarono in questi termini questo mi fu stato questo le fu detto una volta che lei appunto ha avuto questo parere in cui addirittura si diceva che il reiterare avrebbe determinato una conseguenza poteva determinare una conseguenza penale lei in qualche modo visto che lei disse che tutta la notte precedente a questa sua decisione importante la passò nell'interlocuzione anche col ministero dell'interno non io personalmente i miei al gabinetto fecero presente anche diciamo quello che emergeva dai pareri legali relativamente alla violazione penale della possibilità di reiterare il decreto mi dissero anche questo sì cioè le dissero che avevano furono concordi sulla mia decisione anche sulla base del fatto che non si reitera un decreto a cui manchino le condizioni per reiterarlo ma questo lo comunicarono anche al ministero dell'interno questo non posso saperlo so che interroguirono in una situazione di questo tipo perché ancora sono state fatte delle domande che dicevano ci sono stati dei consigli dei ministri ci sono stati delle situazioni in cui avete affrontato formalmente questo problema della reiterazione del decreto io invece le chiedo ci sono stati dei contatti tra lei il ministro Toninelli e il ministro Salvini nel momento in cui si è creata questa situazione che io immagino sia stata una situazione particolare anche di imbarazzo istituzionale in cui scusa Presidente ma perché senza corredare la domanda vorrei sapere non c'è nessun imbarazzo istituzionale è un continuo commento ce lo dirà la ministra commenti per favore le domande evitiamo di fare ce lo dirà la ministra la ministra ai tempi le volevo chiedere ci sono state delle interlocuzioni anche informali di qualunque tipo dirette tra lei e il ministro Salvini tra lei e il ministro Toninelli o se lei ha saputo che il ministro Toninelli e il ministro Salvini si sono parlati per dire dobbiamo reiterarlo e le motivazioni per cui non è stato fatto non so se si siano sentiti il ministro Salvini e il ministro Toninelli so che io e il ministro Toninelli ci siamo confrontati durante la decisione e che come il gabinetto del ministero della difesa il gabinetto del ministro delle infrastrutture anche si stavano confrontando tra uffici e alla fine con Toninelli abbiamo deciso di non firmare quindi tra me Toninelli sicuramente ci siamo parlati e gli uffici si parlavano tra loro dottoressa tenta ci può dire lo sappiamo ma lo vogliamo fare emergere processualmente al tempo lei come ministro della difesa e il ministro Toninelli come ministro delle infrastrutture eravate dello stesso partito e di quale? eravamo dello stesso partito di quale? del movimento 5 stelle mentre invece il ministro Salvini era del partito della lega della lega ecco le volevo chiedere visto che lei ci ha rappresentato una situazione in cui una situazione particolarmente importante lei si sente con il ministro Toninelli e concorda con il ministro Toninelli ci dice che non si sente né lei ma non sa il ministro Toninelli glielo chiederemo con il ministro Salvini che poi lei ci ha detto essere quello che diciamo doveva prendere la decisione sul post ci spiega che cosa stava succedendo e perché non c'era c'era non c'era questo coordinamento come mai non c'è stato un incontro diretto per una situazione così grave era già la fase in cui il governo stava andando verso si affrettava verso la fine e quindi sicuramente le relazioni erano già cambiate all'interno nel rapporto scusi in che senso si affrettava verso la fine nel mese di agosto fu il momento in cui iniziò la crisi di governo che poi è finita con la fine del governo per cui era già una fase in cui i due esponenti principali del governo non erano più in un grande accordo che sarebbero i due esponenti a cui fare finita la lega è il movimento 5 stelle cioè i due partiti e quindi cosa determinava nell'interlocuzione tra i ministri e in questa situazione particolare ha determinato sicuramente una difficoltà maggiore rispetto al momento iniziale del governo in una situazione normale in cui non c'era una conclamata come ci ha detto lei crisi di governo cosa sarebbe successo in un episodio di questo genere tra lei il ministro Toninelli e il ministro Salvini nelle decisioni che hanno riguardato i divieti che venivano dati nei confronti delle navi la prima volta addirittura nei confronti di una nave militare sta parlando di quale nave? la 18 della nave io non sono mai entrata non sono mai entrata e soprattutto in quel caso io tentai di intervenire parlando anche con i ministri del Movimento 5 Stelle e lì compresi che in quel momento il governo era d'accordo nell'operare in un certo modo questo io l'ho detto a Catania devo essere sincera su quello che si dice però c'è stato un momento in cui poi le cose sono un po' cambiate e non perché era cambiata la politica ma perché è cambiato il modo di fare quindi questa decisione alla fine di reiterare il divieto di sbarco e di non concedere il POS alla fine da un punto di vista istituzionale chi la diede? il ministro dell'interno cioè? il ministro Salvini in quel momento davvero il ministro protempore sì un'altra cosa volevo chiedere lei ha ricordato perché io gliele ho diciamo ricordate ma lei me le ha confermate quelle dichiarazioni che lei fece pubblicamente anche commentando la sua la sua scelta di non firmare il decreto lei ricorda di avere commentato questa scelta dicendo non firmo in nome dell'umanità? ma questo me lo ricordo benissimo perché mi è costato una quantità di attacchi mediatici non indifferente non posso dimenticarlo ma lo confermo c'è un limite nella politica che è sempre dettato dall'azione umana dalla sensibilità rispetto a quello che si fa ma che cosa voleva dire non firmo diciamo lei l'ha rivendicata adesso quindi vuol dire che ha una particolare importanza e ci dica cosa vuol dire non firmo in nome dell'umanità significa che le battaglie politiche che noi compiamo non debbono essere ricadere mai sugli ultimi non debbono ricadere su nessuno in realtà ma in particolare sugli ultimi e quindi lei per cui una battaglia giusta nei confronti del controllo dell'immigrazione clandestina deve essere fatta rispettando sempre i diritti umani e concedendo alle persone che sono in quel momento in fragilità la possibilità di essere tutelate difese e protette lei riteneva che il fatto di reiterare un decreto di divieto in quelle condizioni che ci ha detto lei e di non concedere il POS poi ancora per un periodo di 20 giorni potesse configurare violazioni di diritti umani questo che vuole dire? questo è quello che ho pensato va bene non ho altre domande altri interventi? Presidente l'Avvocato Pasqualino per le parti civili buongiorno dottoressa una brevissima precisazione si è parlato appunto della nota congiunta del Presidente del Tribunale per i minorenni e della Procura dei minori di Palermo che evidenziavano la violazione di vieto di rispingimento dei minori in quel momento in quanto appunto il decreto impediva il loro ingresso sebbene l'articolo 19 invece disponeva altro all'esito della ricezione di questo atto vi fu un'interlocuzione tra i ministri firmatari del decreto? quando io veni a conoscenza di questa lettera tentai come ho detto prima di interloquire riuscii a interloquire soltanto con i ministri competenti e col Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle e li misi a conoscenza della mia decisione nell'ambito delle competenze del Ministro della Difesa perché io potevo operare soltanto sulla Marina con chi riuscì a avere interlocuzioni in proposito? parlai con Di Maio con il Presidente del Consiglio Conte e con il Ministro Toninelli cercò interlocuzione oppure fu cercata interlocuzione da parte dell'ex Ministro Salvini tentai ma non riuscii ok un'altra precisazione lei poco fa ha comunque detto che era sua opinione di dover dare maniato assistenza e sbarco ai minori presenti sull'open arms al punto che se ho ben capito ha riferito che diede ordine alle navi militari di dare comunque assistenza di stare vicino all'imbarcazione no io chiesi proprio di effettuare il trasbordo però nel tempo necessario perché la Marina non era così vicina all'open arms nel tempo necessario per arrivare le condizioni del mare peggiorarono per cui non fu possibile non era opportuno era pericoloso fare il trasbordo ma semplicemente a quel punto le navi affiancarono l'open arms per essere comunque pronti a intervenire in qualsiasi caso lei ricorda esattamente in che data determino appunto la necessità del trasbordo dei minori strani all'imbarcazione dell'open arms questo non riesco a ricostruirlo però forse è possibile farlo dagli articoli di giornale perché questa cosa fu pubblicata in questo momento non me lo ricordo proprio ok in ordine sempre alla nota congiunta del tribunale della propria dei minori fu valutata la possibilità di dare una risposta immediata scritta tra i ministri il suo ministero oppure gli altri ministri fu una discussione una volta ricevuta appunto dai capi di questi uffici questa nota di dare una risposta immediata scritta aveva una risposta oppure no fu valutata questa possibilità io oggi da sola immediatamente telefonando direttamente al tribunale e chiedendo informazioni dirette e poi interlui con i ministri grazie nessun'altra domanda parte civile hanno terminato gli interventi la difesa dell'imputato avvocato Giulio buongiorno buongiorno volevo chiederle a proposito del provvedimento del Tar intanto questo provvedimento del Tar avviene sul ricorso di Open Arms e in questo provvedimento del Tar si dice non è del tutto sfornita di fondatezza questo ricorso da parte di Open che segnalava una serie di condotte del primo del vostro del primo provvedimento quello anche da lei firmato si diceva questo provvedimento è un provvedimento che in realtà è erroneo perché indicava una serie di ragioni e c'è questa risposta del Tar lei sa di quali elementi disponeva il Tar per fare una valutazione di correttezza delle affermazioni di Open Arms che affermava di lei sapeva visto che il Tar ha di fatto evidenziato che sommariamente appariva corretto il ricorso che aveva fatto Open Arms nel ricorso di Open Arms erano adotte le ragioni per le quali si riteneva illegittimo il vostro provvedimento di divieto e si riteneva sussistente un passaggio offensivo di Open Arms le chiedo sa quali erano gli elementi a disposizione del Tar per fare questa valutazione di non offensività del passaggio c'è opposizione Presidente se era parte nel processo in quell'udienza il Ministero della Difesa è un il primo provvedimento il primo provvedimento è quello anche firmato dal Ministro Trenta l'opposizione il fatto che lo sappia o non lo sappia è una cosa tra l'altro irrilevante perché poi l'ha deciso del Tar naturalmente ci saranno motivazioni lei all'epoca era Ministro della Difesa volevo capire la conosce la cosiddetta operazione Mare Sicuro mi dice questa operazione Mare Sicuro a che cosa era finalizzata Mare Sicuro era riguardava adesso non vorrei sbagliare perché ce ne erano diverse era quella sull'antipirateria e quindi non era non aveva nessun immediato impatto chiaramente una nave può spostarsi da un posto all'altro e può sostituire anche il percorso di altre navi ma lei sa se c'era un'unità subacquea della Marina Militare sommergibile Venuti che era impegnato nelle regolari attività di vigilanza nell'ambito di operazioni Mare Sicuro che prese parte a delle a un monitoraggio di quanto avvenne ad Open Arms con riferimento al primo evento del 1 agosto no non ne sono al corrente e lei è al corrente se vi furono delle intercettazioni telefoniche proprio fatte sul primo e in occasione del primo evento non ne sono mai stata messa al corrente come ho detto prima ma sa che ci sono state la saputa esposta o non lo sa non lo so non me ne hanno messo al corrente evidentemente il ministro della difesa non doveva essere al corrente perché questo questo materiale in realtà è un materiale che di cui ho chiesto l'acquisizione che però era stato recuperato proprio dall'unità subacquea della marina sommergibile venuti non era alle sue dipendenze certo che era alle mie dipendenze ma c'è un percorso per arrivare non tutto quello che succede ad ogni nave viene comunicato al ministro della difesa se non necessario per prendere determinate decisioni o su istanza da parte del ministro rispetto ad una materia in quel momento probabilmente non era ancora emersa l'importanza di quelle informazioni rispetto alle decisioni che doveva prendere il ministro comunque non ne sono stata messa al corrente siccome avevate fatto un provvedimento in cui si parlava di offensività della condotta per firmare il primo provvedimento lei non chiese ma questo perché noi riteniamo offensivo avete delle intercettazioni avete qualcosa ai suoi sottoposti ripeto quello che ho detto anche a Catania e che ho già detto prima il ministro della difesa firmava per quanto di sua competenza e il motivo per cui è stata apposta sui decreti sicurezza la controfirma del ministro della difesa era assicurarsi che nessun decreto di impedimento di sbarco o di circolazione venisse fatto nei confronti delle navi militari nella titolarità della decisione e della materia è il ministro dell'interno era il ministro dell'interno a decidere per questo io non venivo chiamata a valutare l'opportunità o meno del blocco della nave se questo fosse stato il mio ruolo io avrei operato in maniera molto diversa sì io voglio sapere per quanto riguarda il primo poi ci dice il cambiamento l'ho compreso visto che abbiamo capito che questo sommergibile era comunque sotto la sua competenza non del ministro Salvini che addirittura non sapeva nulla volevo sapere visto che sono state raccolte addirittura c'è un'informativa su questa open arms lei prima di firmare o non firmare non ritenne di dire alla marina che è sottoposta a lei tu cosa sai di open arms non era non era mio compito valutare l'esistenza di un pericolo di questo genere anche laddove le informazioni fossero state raccolte tramite strumenti militari non faceva parte altrimenti per ogni decreto ci sarebbe stata una riunione tra me il ministro Salvini il ministro Toninelli in un governo nel quale anche lei faceva parte c'è una fiducia reciproca io stimo il ministro Salvini anche se ci siamo scontrati spesso e non ho mai pensato che mi stesse dicendo delle cose non vere però non faceva parte del mio ruolo e dico che in un altro caso io avrei combattuto molto di più per i decreti di sicurezza per cambiarli sì io quello che le chiedevo è questo siccome vedendo questi due decreti sia quelli in cui lei mette la firma sia quelli in cui lo mette la firma c'è una parte in cui proprio si rilevano alcune cose quindi si rileva soprattutto nel primo che c'erano alcune condizioni lei queste condizioni che firmava non le verificava in definitiva cioè se c'era presidente ha già risposto non avevo il compito di verificare comunque la domanda è messa non avevo il compito di verificarle non dovevo verificarle e quindi non le ha verificate e quindi non le potevo verificare perché i decreti arrivavano all'improvviso di sera tardi di notte e non ti davano e nella fiducia di un governo per me soprattutto non essendo il mio ruolo avrei dovuto la nave intanto sarebbe arrivata io avrei dovuto fermare tutto e dire no aspetta verifico mi prendo tutto il tempo per la verifica la nave era già arrivata è proprio illogico che gli altri ministri vadano lì a fare la stessa attività che fa il ministro dell'interno io do per presupposto che sia così perché è una firma che deve essere fatta doveva essere fatta con carattere emergenziale per impedire a quella nave di entrare in porto e laddove ci sia un terrorista a bordo che ha già deciso che si farà esplodere appena scende il ministro dell'interno ha l'informazione io non posso fermarlo e dire no adesso voglio verificare non si può fare ma questa attività del sommergibile tutta l'attività di intelligence che veniva fatta e dalla quale emergevano eventuali anomalie quindi a chi serviva per chi veniva fatta a chi veniva data è possibile anche che fosse fatta in quel momento soltanto per le agenzie di sicurezza e che non passasse sulla linea difesa immediatamente non ne sono al corrente quindi mi informerò si informerà d'accordo ma subito dopo il primo provvedimento che lei ha firmato poi ha deciso di non firmare ci ha spiegato le ragioni a quel punto ovviamente lei sapeva che avevate all'interno del ministero questo tipo di attività ha provato a chiedere informazioni cioè ma questa open arms si sta comportando in linea con le norme del mare è tutto corretto o avete delle informazioni delle intercettazioni qualcosa di sospetto prima che io decida di rifirmarne un altro o meno o lei non fece questo approfondimento? io credo che quando un tribunale scrive qualcosa sia qualcosa di vero e quindi devo soltanto riflettere su ciò che ho visto se il tribunale mi dice che se il TAR dice che quella situazione è una situazione quel decreto va annullato non può essere fatto un decreto uguale però lei aveva sotto di sé anche un intelligence che magari poteva non avere il TAR non ritenne di chiedere informazioni alla sua intelligence no non le richiede va bene grazie non ci sono altre domande il pubblico ministerio deve porre domande neanche il collegio deve porre domande possiamo terminare l'esame grazie buongiorno grazie buongiorno sospendiamo i 5 minuti e riprendiamo con Toninelli va bene 5 minuti bene possiamo riaccomodarci riprendiamo e introduciamo il test si lì c'è ancora grazie grazie Grazie. All'obbligo di dire la verità, il nostro ordinamento prevede delle sanzioni severe nei confronti dei testi falsi e reticenti, dovrebbe leggere quella formula con la quale si impegna a dire il vero, a voce alta. Colpevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Perfetto, ora si può accomodare. È sempre il microfono, dovrebbe fornire le sue generalità. Danilo Torinelli, nato a Soresina al 2-8-1974, residente... Va bene così, grazie. Grazie. Il pubblico ministero ha chiesto l'esame, vuoi procedere? Sì, grazie Presidente. Sì, buongiorno. Che incarico ricopriva nel mese di agosto del 2019? Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Che competenza aveva il ministero di cui lei era ministro con riferimento alle operazioni di salvataggio in mare dei migranti? Aveva una competenza sulla base delle direttive internazionali e nazionali, o meglio, le direttive nazionali che avevano recepito quello che erano le direttive di natura internazionale. Competenza che veniva esercitata attraverso la Guardia Costiera e che doveva gestire le operazioni di soccorso in mare, di salvataggio in mare dei migranti, dei naufraghi in generale, fino all'acquisizione del POS. Da allora la responsabilità nella gestione della sicurezza sia sanitaria che personale dei richiedenti passava al Viminale, ovviamente sempre con delle disposizioni di coordinamento tra tutti i ministeri interessati. Quando dice al Viminale intende? Intende al ministero dall'interno, ovviamente. E la competenza a indicare il POS qual era la procedura all'epoca, se la ricorda? Sì, la procedura per l'indicazione del POS è indicata nella richiesta da parte di chi coordina il soccorso inviata ad un ufficio preposto del Viminale, il quale deve dare risposta alla richiesta specifica fatta sulla base di un protocollo d'intesa tra amministrazioni centrali dello Stato e forze dell'ordine interessate nei soccorsi in mare, che era stato disciplinato in un accordo o protocollo tecnico nel 2015. Andiamo alla vicenda Open Arms che lei certamente ricorda nell'agosto 2019. Nel momento in cui viene emesso il divieto di ingresso in acqua e territoriale italiane per l'Open Arms viene emesso sulla base di un decreto firmato dal Ministro dell'Interno, Ministro delle Infrastrutture e Ministro della Difesa. Ci può ricordare, ci può illustrare come siete arrivati alla decisione di emettere questo decreto nei rapporti tra voi i ministri? Avete avuto un'interlocuzione? Come ne avete discusso? Allora, bisogna contestualizzare secondo me anche il momento storico. Quello era un momento in cui il Governo di fatto era già finito, dove non c'era più nessun tipo di interlocuzione da parte dei ministri, certamente non da parte del sottoscritto con l'allora Ministro dell'Interno. e la firma, la sottoscrizione di quel decreto di divieto di ingresso nel mare e nelle acque italiane fatta, mi pare, il primo di agosto, a me venne, io sostanzialmente la feci con, una volta raggiunto dall'autorità di polizia, con il documento del decreto e la relativa firma. Precedentemente, le ripeto, non ci fu nessun tipo di interlocuzione. Ovviamente, io le informazioni da Ministro le avevo sulle modalità che avevano portato l'ONG privato Open Arms a operare prima nel Marsar libico, eccetera, eccetera, poi non sto a raccontare tutta la cronistoria dei fatti, e venne firmato. Fu un atto formale di sottoscrizione del decreto sulla base dell'esistenza di quella norma di legge. Quindi chi decise l'adozione del decreto che poi lei controfirmò? Ovviamente il Ministro dell'Interno, il Ministero dell'Interno, i Dipartimenti interessati. Per quale ragione era prevista la controfirma, tra l'altro, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti? Ma la ragione era un concerto. La ragione era insita nella legge in sé. La legge in sé era stata scritta nella versione approvata dal Parlamento con il concerto dei Ministeri delle Infrastrutture, con il Ministero e con il Ministro della Difesa, stante le reciproche ed individuali responsabilità di natura amministrativa individuale. Qual era il presupposto del divieto d'ingresso? Cioè il divieto d'ingresso viene messo sulla base di quale ragione? La legge, violazioni di legge, rischi di sicurezza sanitaria, rischi di sicurezza di ordine pubblico, di sicurezza nazionale. Penso anche rispetto delle normative nazionali ed internazionali. La fattispecie dell'Open Arms era una fattispecie certamente particolarmente anomala, nel senso che, signor Pubblico Ministero, la Guardia Costiera, in particolare il Centro di Coordinamento Nazionale del Soccorso in Mare, non aveva mai preso in gestione i casi del SAR, i casi di Search and Rescue, che erano capitati nel soccorso fatto dall'Open Arms. Insomma c'erano una serie di condizioni che riguardavano il caso specifico. Per questo presupposto dei rischi di ordine pubblico, sicurezza, sicurezza nazionale, a lei furono rappresentati da qualcuno? Quali erano in concreto questi elementi di pericolo, di offensività dell'Open Arms? No, non mi vennero prospettati nello specifico. Però, le ripeto, la fattispecie era tale per cui, dal punto di vista del Ministero delle Infrastrutture, voi dovete sapere che la Guardia Costiera non è che opera interviene nel salvare i viti umani di naufraghi, se gli dice il Ministro di farlo. Lo fa in automatico, sulla base di regole di ingaggio scritte in norme internazionali, in norme nazionali. Il caso particolare, le ripeto, poteva esserci anche un fumus, un rischio, non essendo a conoscenza, ma io in questo caso sto ragionando di una competenza non mia, signor Pubblico Ministero, nel senso che quel rischio di sicurezza, sia sanitaria che sicurezza in sé, era stato esplicitato dal primo firmatario, dal proponente, l'atto stesso. Quindi chi? Il Ministero, il Ministro dell'Interno e gli organi preposti al Ministero dell'Interno, così certamente. Ma lei, attraverso la Guardia Costiera, che abbiamo detto, rientra tra gli organi sotto inquadrati il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Guardia Costiera aveva fatto delle segnalazioni relative a queste circostanze, sicurezza pubblica, terrorismo, ordine pubblico, quelle che sappiamo che vengono inquadrate genitamente nel cosiddetto passaggio non inoffensivo. Lei le aveva ricevute queste informazioni? No, il sottoscritto non le aveva ricevute. Successivamente questo decreto viene sospeso dal Tarlazio, si ricorderà? Sì, non ricordo l'ata specifica, penso il 12-13 agosto, comunque sì, assolutamente. Il 14 agosto. Cosa succede dopo che viene sospeso il decreto del Tarlazio? Ce lo può dire? Sì, dopo arrivò, penso il giorno dopo, probabilmente il giorno di ferragosto, un secondo decreto che però non venne firmato dal sottoscritto non essendo cambiate le situazioni, non essendo mutato il contesto rispetto alla firma del primo decreto. Quindi la situazione di per sé stava cambiando, si stava complicando perché il tutto partiva dal primo di agosto, mi pare. Sì, il primo decreto è del primo agosto. Sì, ma la non sottoscrizione ovviamente fu dovuta al fatto che sarebbe stato nuovamente impugnato e sarebbe stato nuovamente accolta come impugnazione, quindi non c'era ragione d'essere per una seconda firma firma di un decreto che andava a replicare il primo senza alcuna modifica né giuridica né sostanziale della situazione. La situazione si stava complicando o cosa intende? Lei dice anzi la situazione non solo non era cambiata ma anzi si stava complicando. Ce lo spiega? Sì, si stava complicando nel senso che le notizie che arrivavano, nonostante gli organi preposti fossero costantemente in controllo della situazione, le informazioni che arrivavano, le informazioni che a bordo della nave la situazione diventava complicata. Dobbiamo ricordare che si tratta non di una nave preposta all'attività di soccorso di persone in mare, ma è una nave di carico, è una nave che mi sembra comportasse una portata di 15-20 persone al massimo, ma ne aveva a bordo molto molto di più e quindi la situazione è che il protrarsi al tempo non era, non c'erano 15 gradi ma c'erano certamente più gradi e quindi la situazione certamente iniziava a complicarsi e quindi per questo motivo e perché, ma per l'assenso di logica, non si potesse più fermare, reiterare un decreto già annullato che era identico a quello annullato, con le stesse condizioni ovviamente è sottoscritto e penso anche la collega della difesa abbiano ritenuto che non fosse logico farlo. Quando lei poco fa aveva detto che arrivò questo secondo decreto, arrivò da parte di chi? Chi lo mandò? Sempre, l'iter è sempre lo stesso, il ministero, il ministro, il proponente e che va poi a arrivare sulla scrivania dei ministri, dei concertanti, che sono sotto il ministro dell'infrastruttura e il ministro della difesa. In relazione a questo caso Open Arms, quindi qual è la sua valutazione dal punto di vista tecnico-politico dell'operato del ministero dell'interno? Bisogna discernere molto la valutazione politica da quella amministrativa, barra ministeriale. Un conto è la linea politica e io da ministro condividevo la linea politica di una maggiore condivisione a livello europeo della gestione del problema migratorio e dell'immigrazione clandestina. Ma la linea politica di condivisione si ferma, non completamente, ma si ferma e conclude nella responsabilità amministrativa, barra ministeriale, dei singoli. Quindi la linea politica era cerchiamo di contrastare, rispettando le leggi, l'immigrazione clandestina con l'obiettivo di interessare anche gli altri paesi a prendersi le proprie responsabilità con ovviamente il limite della responsabilità dei singoli. La responsabilità di un ministro delle infrastrutture termina, o non del ministro, del ministero delle infrastrutture, perché la guardia costiera, le ripeto, opera indipendentemente, un ministro non può dire la guardia costiera salvi quei migranti che stanno negando o non salvi, la guardia costiera è obbligata a farlo, indipendentemente dall'indirizzo politico. Quindi la responsabilità del ministero termina, delle infrastrutture scusate, termina con l'invio della richiesta di place of safety fatto dalle stesse, nel caso in cui si è essa stessa coordinare o fatto dall'ONG come in questo caso. Da quel momento inizia la responsabilità del ministero dell'interno per l'ordine pubblico, la sicurezza, tutto nasce da che cosa? Da una direttiva IMO che è l'organizzazione marittima internazionale che nel 2004, stante maggiori flussi nel Mediterraneo e dalla Libia, definisce delle linee guida che vengono recepite dall'Italia come inserendo l'articolo 10 ter nel testo unico sull'immigrazione e facendo un protocollo di intesa, che è questo qua, dove tutte le amministrazioni centrali definiscono le linee di condotta ed è chiaro che la responsabilità per l'apertura del posto in quanto ordine pubblico, sicurezza, salute eccetera eccetera, competa al ministero, al Viminale, al ministero dell'interno con le prefetture sul territorio. E stop. Quindi secondo lei, ripeto sempre dal punto di vista quindi amministrativo, cosa sarebbe dovuto fare nel caso specifico dell'Open Arms? Una volta questa situazione si era, come dice lei, sempre complicata. Però lei mi sta chiedendo, signor magistrato, un'opinione di natura personale, nel senso che io posso esprimere un'opinione di natura personale, ma non... Non personale sua come Danilo Toninelli, come un soggetto che ha rivestito la carica di ministro in un governo della Repubblica. No, no, ma lo so perfettamente, mi spiego meglio. Nel momento in cui un'imbarcazione possa essere un'imbarcazione privata come l'Open Arms o un'imbarcazione di Stato come un'imbarcazione della Guardia Costiera, chiede il Place of Safety, ripeto, lì finisce la responsabilità dell'amministrazione centrale del Ministero. Quindi se valutate tutte le condizioni, se non c'erano più le condizioni per andare avanti, dovevano essere fatti certamente sbarcare. Io vorrei dividere molto quello che secondo me è stato molto integrato in maniera errata tecnicamente. Il giusto tentativo di condividere la responsabilità del salvataggio delle vite umane in mare e del ricollocamento dei migranti con l'apertura di un post. Sono due cose completamente diverse. Poi io so già che mi chiederanno di post fatti e mica post fatti. Quando il sottoscritto parlava di i paesi europei la devono smettere di girarsi dall'altra parte. È un'opinione tecnica, è una valutazione tecnica che avevo allora, come avevo oggi, ma si rifà ai ricollocamenti e alle assegnazioni. Cioè le sostiene, intanto li salviamo, poi si vede, discutiamo l'aspetto. Io però non avevo, io non sono né l'autorità sanitaria né l'autorità di pubblica sicurezza, quindi non so dirle, era assolutamente necessario farli sbarcare. Però le so dire, se mi viene detto, ma lei è in contraddizione perché diceva che la Spagna doveva intervenire. No, io sto parlando di ricollocamenti che possono essere fatti e debbono essere fatti una volta che i richiedenti asilo sono su terraferma. E in caso eccezionale, una volta che un altro paese apre un place of safety in un suo porto, come sta capitando in questo caso, e quell'imbarcazione con i migranti decide di farli sbarcare in quel porto. E per concludere, questa autorizzazione allo sbarco dei migranti dichiera competenza? Ripeto, a livello legislativo e di accordi interni tra amministrazioni dello Stato, esclusivamente al Ministero dell'Interno. Che all'epoca era? Il Ministro Salvini. Non ci sono altre domande, Presidente. Per la parte dei difensori delle parti civili? Sì, buongiorno, sono l'Avvocato Pasquilino per le parti civili. Desideravo sapere se il suo Ministero ha ricevuto all'epoca una nota congiunta del Presidente del Tribunale per i Milioni di Palermo, della Procura dei Milioni di Palermo, dove veniva rilevato la violazione del divieto di spingimento dei milioni stranieri non accompagnati a bordo dell'Open Arms. Se ricorda questa nota congiunta? Sulla scrivania del sottoscritto no, non posso escludere che sia arrivata ovviamente agli organi, ai dipartimenti, alle varie direzioni interne al Ministero. Sulla scrivania del sottoscritto no. Ripeto, bisogna sempre contestualizzare il momento. Era un momento in cui il Governo era già completamente sfaldato, non c'era nessun tipo di interlocuzione tra i Ministri e era già finito di fatto il Governo. Comunque la risposta è no. Ma lei ne ha avuto conoscenze in altro modo, se ne è parlato, altri Ministri hanno riferito di aver ricevuto questa nota. Ma se fosse arrivata al sottoscritto è arrivata per conoscenza, non certamente per competenza diretta, perché le ripeto, qual era il nodo della questione? Il nodo della questione era far sbarcare delle persone in presunta grave difficoltà su terra ferma per poterle curare, identificare e in caso di necessità sanitaria curare. E questo non competeva da nessun punto di vista alla Guardia Costiera o al mio Ministero. Poco fa lei ha riferito di avere informazioni sulle modalità come Open Arms aveva tratto in Salvo in Aufraghi, in che senso, quale informazioni aveva? E le informazioni ovviamente che erano arrivate dalla Guardia Costiera, perché in quel caso siamo all'interno della responsabilità della Guardia Costiera come ente nazionale, come prevede la Convenzione di Sahara di qualche anno fa, di coordinamento e di intervento per il salvataggio in mare dei richiedenti asilo o dei naufraghi. L'Open Arms a memoria sbarca, parte da un porto siciliano il 29 di luglio, dichiarando di dirigersi verso Lampedusa. Non fa questo, arriva fino nel mare Sar Libico e lì iniziano le operazioni di salvataggio, 3-4 mi sembra di ricordare. Una di queste era avvenuta all'interno del Mar Sar Maltese di 39-40 migranti di cui Malta aveva espresso disponibilità per lo sbarco, cosa non accettata a mia memoria da parte dell'Open Arms. L'Open Arms decide di dirigersi verso il mare di responsabilità italiana, nonostante l'Italia con la Guardia Costiera non avesse mai preso il coordinamento di quel soccorso, perché la Convenzione internazionale dice che in base alla responsabilità, a che tipo di Sara, a che tipo di mare di responsabilità giuridica marittima, avviene il fatto che la relativa responsabilità dipende dall'autorità di quel territorio. Quindi il Maltese in quel caso avrebbe dovuto, e le autorità maltese avrebbero dovuto intervenire. Quindi la situazione era per cui l'Italia di fatto non aveva preso, non so come dire tecnicamente, il coordinamento, forse questo è il termine giusto, del salvataggio attraverso l'Open Arms. L'Italia non aveva preso il coordinamento, ma già dal primo dicembre, dal primo salvataggio, notizia se Open Arms aveva fatto richiesta, dal primo agosto, aveva notizia se Open Arms aveva fatto richiesta anche allo Stato italiano di presa in carico di FD? Questo, no, a mia memoria non ricordo, però sono comunicazioni, signor Avvocato, che non arrivano sulla scrivania, ma vanno automaticamente alla centrale, all'IMRCC, che è il centro di coordinamento nazionale. Non avendo noi mai preso in carico, non penso, perché io ricordo sicuramente alle regole. Le regole che cosa dicono? Che anche se non siamo nel SAR di competenza nazionale, ma veniamo a conoscenza di un accadimento pericoloso, bisogna intervenire, anche se non sei l'autorità preposta, saldi le vite, ci mancherebbe altro, e attendi che l'autorità preposta e competente giuridicamente per territorio, in quel caso era SAR anche maltese, prenda il coordinamento delle operazioni, diciamo. Però dirmi a memoria, sinceramente, le ripeto, non sono comunicazioni che arrivano direttamente sulla scrivania del Ministro. Questo per il primo salvataggio. Per gli altri salvataggi, notizia, se Open Arms fece richiesta e assegnazione di un POS a tutte le autorità SAR competente, tra cui anche l'Italia? Penso che, ma sto andando veramente a memoria, arrivassero, fossero arrivate una volta che il Tribunale amministrativo congelò il decreto, quindi siamo al, mi correga se sbaglio, il 14 di agosto? Penso che in quel momento siano arrivate le prime richieste di place of safety in territorio italiano. Dovrei ricostruire... L'ascolto, eh? Quello che ricorda, dottore. Sì, 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 questo ricordo, signor Avvocato. Eh, dopo la sospensione e l'efficacia esecutiva del decreto interministeriale, vi furono interlocuzioni con gli altri ministri? Ministri italiani no. Le ripeto, il contesto era quello di un governo completamente finito, di una campagna elettorale in corso, non da parte del sottoscritto intendo come campagna elettorale, era un argomento stressato politicamente per evidenti motivi di consenso nella mente di qualcuno che immaginava e pensava che le elezioni ci sarebbero state di lì a pochissime settimane o mesi, l'unico ministro ma straniero che io contattai, che di cui veni contattato, fu l'omologo spagnolo, ritengo, avendo letto dei giornali perché la comunicazione dall'allora ministro dell'interno non mi arrivò, ritengo, in conseguenza, questa telefonata che ricevette dal ministro dei trasporti spagnolo, della lettera che l'allora ministro dell'interno scrisse alla Spagna, alle autorità politiche e governative spagnole, circa la richiesta di un'apertura di un POS in un porto spagnolo. E la cosa stava andando avanti, sembrava che ci fosse questa possibilità, che poi non non portò a nulla di fatto. Sì, un'ultima precisazione. Il suo ministero, lei personalmente, durante tutta la vicenda, ha avuto informazioni sulle condizioni sanitarie dei migranti a bordo per l'operare? Informazioni specifiche, mai. Interlocuzioni con il comandante generale del corpo. Io le chiedevo, ma non siamo noi l'autorità preposta alla cura sanitaria, intervengono a molte altre autorità. Si tratta di un ambito, se lei guarda il protocollo di intesa fatto proprio per il salvataggio in mare, che definisce le regole per cui chi coordina la guardia costiera, ma poi ci sono altre autorità, ci sono altri enti che intervengono con responsabilità differenti, che poi dei medici vengano trasportati su, in questo caso, l'ONG attraverso un'imbarcazione alla guardia costiera, posso dire che non sono mai salito, che è del tutto probabile, ma possono intervenire anche dalla marina militare piuttosto che dalla guardia di finanza. È un obbligo legislativo, oltre che morale, che lo Stato ha nelle sue diramazioni, quello di salvare le vite e fare in modo che poi una volta salvate non muoiano all'interno di un'imbarcazione perché ci sono 70 gradi all'ombra, anzi senza ombra, visto che non c'erano grosse coperture. Non ho responsabilità diretta in quest'ambito. Le rassicurazioni generiche sì, da uno che giustamente cerca di ottenere informazioni a 360 gradi. Scusi, la risposta alla mia domanda è sì. Quindi avevate informazioni sulle connessioni Sì, no, specifiche, sì, no, specifiche, certamente, informazioni generali assolutamente sì. E se ricorda che informazioni erano? Che ci fossero difficoltà, che ci fossero richieste di sbarco di persone, di alcune di queste persone, che non fosse semplice stare all'interno, che la situazione veniva costantemente monitorata. Nelle difficoltà, quello che ricordo, signor Avvocato, non era così drammale. Era una situazione difficilissima, che non augurerei ovviamente a nessuno, ma la situazione è tale che stavano morendo, è una situazione certamente complicata, ma da quanto veniva detto al sottoscritto, senza le competenze necessarie in ambito diretto sanitario, di tutela della salute diretta, era una situazione difficile, ma una situazione insostenibile. Questo ricordo. Sì. Un'ultimissima precisazione. Lei ha parlato di regole d'ingaggio, di questione politica, redistribuzione, accordi con gli altri Stati europei. Ma questa redistribuzione cosa comportava? Che i migranti dovessero stare a bordo delle imbarcazioni fino a quando gli altri Stati non ne facciamo carico, oppure no? Era questa la vostra soluzione per consentire la redistribuzione? Allora, la questione è più complicata ovviamente della giustezza, della correttezza della domanda, perché va a toccare tanti ambiti. Tendenzialmente è no, tendenzialmente no, anche se è una materia che non ha una certezza giuridica, signor Avvocato, questo è poco ma sicuro. Non c'è una chiarezza, certamente c'è la necessità di intervenire, di salvare vite, di garantire loro non solo il diritto alla salute ma anche i diritti fondamentali, dove all'interno di un place of safety. Qualche d'uno ritiene che un place of safety possa essere anche l'imbarcazione stessa, nel caso in cui ci siano le condizioni per poterci stare su quale imbarcazione. Però non c'è una legge che definisce chiaramente e dà la possibilità chiaramente di dare una risposta alla sua domanda. Certamente uno immagina che vengano salvati, vengano fatti sbarcare, vengano controllati e venga impatriato chi non ha diritto, perché non ha diritto alla protezione internazionale e vengano assegnati sulla base di regole di ricollocamento che non erano per nulla automatiche, la regola oggi è anche quella volontaria, ma la volontà non si è dimostrata a livello generale europeo. Quindi questa è la situazione. Sì, e lei, nelle ipotesi in cui si è verificata effettivamente la redistribuzione in afraghi, ricorda i tempi in cui gli altri Stati europei hanno risposto, in che tempi hanno risposto, hanno preso in carico i migranti? La competenza sul ricollocamento è una competenza che fa riferimento alla Presidenza del Consiglio, certamente, al Ministero dell'Interno, certamente, al Ministero degli Esteri, non fa riferimento ovviamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quello che le posso dire è che all'inizio del governo, durante circa un anno, la situazione era peggiore che nella parte finale. Si era creata, non posso definirla certamente prassi, però c'era creata una situazione per cui c'era più possibilità, in tempi un po' più stretti, ricollocare parte dei richiedenti asilo sbarcati sul suolo italiano nella seconda parte del governo Conte 1. Nel caso di specie, mi pare di ricordare che a un certo punto l'allora Presidente del Consiglio Conte, la data probabilmente era successiva al 15 di agosto, aveva pubblicamente affermato che sei paesi europei si erano fatti avanti per i ricollocamenti. Come sia andata non lo so. La mia domanda è in generale, negli altri casi, a conoscenza dei tempi per cui effettivamente avveniva poi il trasferimento dei naufraghi dall'Italia agli altri paesi che ne prendevano in carico? No, non sono a conoscenza dei tempi. Ok, grazie, nessun'altra domanda. Prego. Altri interventi? Io, sì, un paio di domande soltanto. Della vicenda Open Arms nel suo complesso, prima e dopo del decreto del Tar, è stato mai investito collegialmente il Consiglio dei Ministri? Ne avete discusso all'interno del Consiglio dei Ministri? La ringrazio di questa domanda perché mi permette anche di chiarire una cosa che ho trovato molto poco etica. Il Consiglio dei Ministri nel Conte 1, in tutta la sua durata, non ha mai affrontato l'argomento dei sbarchi e dei ricollocamenti. Mai. Non c'è mai stato all'ordine del giorno di un Consiglio dei Ministri questo argomento specifico. In un precedente caso giudiziario molto simile è stato addirittura dichiarato che, in questo caso dall'avvocato difensore dell'ex Ministro Salvini, dell'interno, ci fosse, in quanto è Ministro di allora, che erano evidenti casi frequenti di attesa in Consiglio dei Ministri, quindi all'interno della sala del Consiglio dei Ministri, di ore ed ore ed ore, in testuali parole dell'avvocato Buongiorno, allora Ministro, ore ed ore ed ore di attesa perché il Presidente del Consiglio, il Ministro Salvini, il Ministro Di Maio e il Ministro Toninelli erano chiusi nella stanza latere, la stanza vicina, a discutere dei ricollocamenti, a discutere di chi far sbarcare, quanti far sbarcare. Non è mai avvenuta alcuna riunione a latere di un Consiglio dei Ministri convocato che abbia comportato l'attesa anche di un minuto per motivi relativi alla decisione sui ricollocamenti. Mai in un Consiglio dei Ministri ufficiale, mai in una riunione informale dei Ministri. Quello che è stato detto dall'allora Ministro è falso platealmente. Non c'è bisogno che riassuma. Non c'è mai stata una riunione sulla vicenda penale. L'Avvocato Daniela Ciancimino per Legambiente. Buongiorno. Lei ci ha detto oggi, appunto credo su domanda del Pubblico Ministero, che era conoscenza del fatto che la nave Open Arms non era una nave diciamo addetta al soccorso dei migranti e che poteva portare a bordo, diciamo, comodamente 15-20 persone. Era conoscenza anche del numero di migranti che erano stati soccorsi? Assolutamente sì, signor Avvocato. Queste erano informazioni... E ci può dire se ha il ricordo del numero dei migranti? Perché lei ha il ricordo del numero delle persone che legittimamente quella nave poteva portare, diciamo, in situazioni normali, non di soccorso, perché ovviamente in situazioni di soccorso si soccorre chiunque e tu non si lascia amare nessuno. 20-15. Quante persone invece stavano a bordo dell'Open Arms quando si cominciò a parlare di decreto, di vieto e poi di posse? Gli eventi SAR furono tre o quattro, con parecchie decine di richiedenti asilo di migranti in ogni evento SAR di salvataggio, singolo evento di naufragio. Mi sembra di ricordare attorno al 140. Attorno al 140 su una nave che ne poteva contenere le ciasetto 20-15. Di queste informazioni era a conoscenza solo il suo ministero o anche il ministero dell'interno? Cioè che su una nave che ne poteva contenere 15-20 ce ne stavano 160. Ovviamente tutti i ministri interessati ne erano a conoscenza. Questa situazione, anche solo questa situazione, questo confronto, non avrebbe dovuto determinare una decisione di sbarco immediato di queste persone, al di là delle situazioni sanitarie, anche solo quello che stiamo dicendo. Dipende da quello che indicavano i sanitari e dal ministero dell'interno se apriva o meno una place of safety. Lo sbarco non può essere, nessuna nave può attraccare di questo tipo sto parlando, senza che sia allestito un contesto di controllo, di verifica e di cura delle persone. Certo, questo contesto di verifica e di cura delle persone si stava provvedendo ad allestirlo prima possibile per farli sbarcare prima possibile in quelle condizioni numeriche tra la nave e il numero dei migranti o no? Non lo deve chiedere al sottoscritto, io le dico semplicemente guardando le date, i tempi di permanenza all'interno dell'imbarcazione, no. Sapevate, quando dico sapevate, il suo ministero, lei personalmente e per quello che ne sa anche il ministero dell'interno e il ministro Salvini, che sopra la nave c'erano parecchi minori e donne? Sì, ricevevamo informazioni di questo tipo e sono state la motivazione per cui a un certo punto il Presidente del Consiglio interviene con una missiva inviata al Viminale ed è la prova che le competenze erano definite e non è inviata la missiva del Presidente del Consiglio al Ministro delle Infrastrutture o alla Guardia Costiera, la missiva al Viminale di sbarco dei minori, mi sembra di ricordare che le missive fossero due, prima dei minori e successivamente di tutte le persone che erano in una situazione di salute tale per cui dovessero essere sbarcate. Lei ricorda, lei ci ha appena detto, una missiva inviata al Viminale, ricorda se questa missiva era inviata direttamente al Ministro Salvini? Questo non lo so perché non ho ricevuto copia, quindi non... Però sa di questa nota, lo sa. Lo posso sapere come si può sapere leggendo tutte le varie informazioni che vengono riportate dagli organi di stampa, da una lettura delle informazioni degli organi di stampa sembrerebbe da un'interlocuzione tra l'allora Presidente del Consiglio e l'allora Ministro dell'Interno parrebbe una missiva inviata al Ministro, però le ripeto... Ecco, volevo in questo caso magari, passato un po' di tempo, sollecitare il suo ricordo anche sull'ultima domanda che l'ho fatta, se era inviata al Viminale o al Ministro Conte comunque una precisazione sul contenuto, su una videointervista che lei ha reso alla News del 31 luglio 2020, io non so se diciamo lei la ricorda, lei commentava questa vicenda dello sbarco e del decreto, dicendo il casino che ha fatto Salvini quando ha messo in crisi il governo, lo ricordo era l'agosto del 2019, aveva ricevuto Salvini una lettera dal Presidente del Consiglio Conte che gli diceva almeno fai sbarcare le donne minori e le persone in difficoltà di salute e in quel momento aveva già rotto i rapporti con tutti, non rispondeva a nessuno, era già crisi di governo, lei conferma questo? Sì, penso di averlo fatto intendere anche nelle mie precedenti dichiarazioni come risposta a domande sia di Pubblico Ministero che dell'Avvocato di parte civile, confermo pienamente, non esisteva più il governo, esisteva una persona che andava in giro e parlava con parole pesanti per arrivare alla pancia delle persone della parte migratoria, ma le ripeto, non per me ma in generale fondamentale dividere la linea politica condivisa, nel senso condivisa la linea politica non nell'estremizzazione dei toni che servono solo per avere voti, dell'azione governativa, è una cosa completamente diversa, è come una squadra di calcio che gioca per vincere quella determinata partita e l'attaccante fa un fallo perché vuole vincere, ma quel fallo ne risponde solo l'attaccante, non tutta la squadra, la squadra si è organizzata, ha fatto una tattica per vincere la partita, ma se uno fa un fallo la responsabilità è sua. Lei appunto ci diceva che non rispondeva a nessuno, ha confermato quello che io ho letto, cosa vuol dire? Che questa vicenda dello sbarco, del decreto, della mancata concessione del post fu gestita esclusivamente da Salvini, lei ha detto che parlava alla pancia delle persone, cosa intende dire? Intendo dire che l'allora ministro Salvini oramai agiva in totale autonomia, era in campagna elettorale, non vennero più fatti i consigli dei ministri in quel periodo, era ovviamente l'agosto e il governo finì lì. Io non ricordo la data precisa della mozione di sfiducia depositata dal partito della Lega che ha dato avvio alla fine definitiva del governo Conte 1, ma di fatto era già nelle cose, non esisteva più un consiglio dei ministri fatto da ministri che operavano collegialmente. Quello è in quel momento. Ascolti, volevo sapere, visto che c'era anche un contratto di governo, anche lei ha parlato di campagna elettorale adesso, con riferimento anche a quel periodo dello sbarco dell'Open Arms, e prima aveva detto che c'erano motivi di consenso. Ci può spiegare quale rapporto c'è tra il comportamento tenuto dal ministro Salvini di non concedere il post per tutti questi giorni, anche contrariamente a quello che avevate valutato lei e il ministro Trenta? La campagna elettorale, i motivi di consenso e, diciamo, quella che era la battaglia principale della Lega dei porti chiusi. Ci può spiegare? Io spiego semplicemente con una dichiarazione che ricordo essere stata fatta dall'allora ministro Salvini in un evento pubblico su un palco dove disse che per i migranti regolari la pacchia è finita. Che cosa le devo spiegare di più di questo? Il 30% preso dalla Lega pochi mesi prima era ovviamente innesso diretto con quello che stava accadendo. Quindi quello che lei ci vuole dire è che questa decisione di prorogare ancora di più lo sbarco era all'interno di una campagna elettorale di un consenso in un momento in cui c'era una crisi di governo. Allora, io dello sbarco sinceramente siccome siamo nell'ambito della responsabilità amministrativa non mi permetto. La responsabilità amministrativa si estrinseca con un'azione o un'omissione di un'azione, quella di concedere o meno un POS, come dice la legge. Quello di cui invece lei mi sta chiedendo è una questione di natura politica. Politicamente io le dico che... E ai fini del movente. Esatto, certamente. Siccome si sapeva che si sarebbe di lì a poche ore barra giorni depositata una mozione di sfiducia, si stava cercando di monetizzare, diciamo così, al massimo il consenso, stressando un argomento molto dibattuto in quel periodo, ma molto che aveva nella sensibilità pubblica enorme, in modo tale che si caricava sempre più il consenso che sarebbe stato monetizzato il giorno del voto. Ogni giorno di trattenimento in più era un consenso in più? Era consenso in più? Presidente, però... È una valutazione politica. Presidente, va bene, la ritiro. La ritiro. Volevo chiederle, andiamo ad un altro fatto non politico. Lei sapeva, lei e il suo ministero, le aggiungevano informazioni sul fatto che ci fossero richiedenti asilo sull'Open Arms? È scontato? No, è scontato, lo sappiamo, però io voglio sapere se voi sapevate che sulla Open Arms c'erano richiedenti asilo che avevano già fatto domande di asilo e ancora non venivano fatti scendere. Questo no. Che ci fossero richiedenti asilo che già avessero fatto richiesta di protezione internazionale dall'imbarcazione? No, signor Avvocato, non ne avevo contente. E se l'avesse saputo qual era il comportamento istituzionale che si doveva tenere? Non se l'avesse saputo. Nel caso in cui ci fossero richiedenti asilo su un'imbarcazione di soccorso che ha prestato soccorso in male, qual è la disciplina che si doveva adottare rispetto allo sbarco di queste persone? Le richieste di asilo non vengono ricevute, recepite e lavorate dal ministro dell'infrastruttura ma dal Viminale, quindi non ho possibilità dal punto di vista della gestione amministrativa di dare una risposta. Comunque, lei mi ha confermato che non aveva notizia del fatto che fossero state fatte richieste di asilo, già presentate, ma che ci fossero dei richiedenti asilo. Sì, che fossero futuri richiedenti asilo lo davamo e lo do per scontato. Che ci fossero persone su quale imbarcazione che avessero già, ma non so come tecnicamente e sinceramente abbiano potuto fare richiesta di asilo, no assolutamente, perché non viene inviata al MIT. Va bene, un'altra cosa. Visto che la Open Arms, appunto, lei sapeva questi migranti dell'Open Arms, quindi i barchini da dove provenivano, soccorsi dalla Open Arms? Da dove provenivano? Tendenzialmente dalle coste libiche. Primo salvataggio dell'Open Arms in mare SAR libico, secondo salvataggio, o forse anche il terzo, nella parte maltese, del SAR maltese, responsabilità di Malta. Mai avvenuto al mare italiano? Sì, volevo chiederlo per la prossima domanda. La Libia è un porto sicuro? Domanda difficile, signor Avvocato. Però dal punto di vista giuridico, e quello noi dobbiamo fare riferimento alle convenzioni internazionali, il SAR libico, cioè il mare di responsabilità giuridica della Libia c'era, il riconoscimento giuridico della guardia costiera libica c'era. Poi dopo possiamo entrare in un discorso umanitario? No, no, umanità, io parlo di organizzazioni internazionali, ufficiali, considerano la Libia un porto sicuro dove poter riportare, ricollocare i migranti o no? Signor Avvocato, io da Ministro rispondo alla legge e la legge dice che esiste una guardia costiera libica riconosciuta ed esiste un mare SAR libico e le procedure dicono, nonostante consapevole delle difficoltà di cui lei mi sta indicando, che se vengono salvati naufraghi in mare SAR libico, laddove si tratti di società private e di imbarcazioni private, la richiesta di post deve essere fatta di intervento nei confronti della guardia costiera libica, conscio delle enormi criticità, ma quello è stato fatto ed è stato fatto prima dell'insediamento del Conte I come accordi internazionali e che disciplinavano una legge, diciamo, delle discipline giuridiche. Lei conosce se ci sono organizzazioni internazionali che parlano di violazione di diritti umani sistematiche perpetrate a Libia nei confronti dei migranti? Lo sa? Non lo sa? Le arrivavano dei report? Tutti lo sanno, ma... Tutti lo sanno e lei lo sapeva come Ministro dell'Infrastruttura? Io sapevo quello che dovevo fare per rispondere alla legge, quindi io devo rispondere... Sì, dico, ma lo sapeva, era noto, lo sanno tutti, l'ha detto lei. Ma se non avessimo... La legge dice questo. Va bene. Non ho altra domanda. Altre interventi? La difesa? Sì, lei è dottor Toninelli, è laureato, come la devo chiamare? Mi chiami come vuole Toninelli, va benissimo, avvocato, buongiorno. No, vabbè, per saperlo. È un test e tu... Signor Toninelli. Signor Toninelli. Signor Toninelli. È importante. No, per sapere come chiamarla. Lei ha detto rispondendo che, se ho capito bene, che non c'era, che è un falso l'affermazione secondo la quale c'era una condivisione sulle procedure di salvataggio. È corretto? Mi ripete la domanda? Sì. Se non sbaglio, rispondendo prima a una delle parti, lei ha detto che è assolutamente un falso che c'era una condivisione sulle varie procedure di salvataggio, che il Governo non esplorava collegialmente tutte queste possibilità di salvataggio. Lei pensi che abbia fatto confusione, signor avvocato. Io ho parlato di condivisione politica dell'azione di lotta all'immigrazione clandestina e di responsabilità amministrativa pertinente ai singoli di Casteri. Sì. Volevo sapere, lei rispondendo alle domande precedenti ha detto che era un falso assoluto che c'erano delle riunioni in cui si condividevano le procedure di salvataggio. È così o ho sentito male io? Io ho parlato di una sua dichiarazione, signor avvocato, fatto in calce ad un processo chiamato cosiddetto Gregoretti, tenutosi a Catania, in cui lei addirittura nei confronti del sottoscritto ha detto che provava imbarazzo nei confronti di quanto dichiarato da Toninelli perché io ricordo bene, dicendolo due volte, io ricordo bene le ore che attendevamo all'interno di un Consiglio dei Ministri prima che terminassero le riunioni tra Conte, Salvini, Toninelli e mi pare anche di Maio che dovevano decidere sugli sbarchi e su chi far sbarcare, chi non far sbarcare eccetera eccetera. Non c'è mai stato non solo una riunione all'attere di un Consiglio dei Ministri, lei non ha mai aspettato un secondo, ha detto una falsità, mi dispiace ma questo è assolutamente lo confermarà Conte, lo confermarà chiunque, come non c'è mai stato un Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno la questione che trattasse l'Open Arabs e qualsiasi altro caso di sbarco da una ONG. Ok, allora c'è una memoria, sua firma, poi mi dirà se lei la riconosce o meno, in cui c'è scritto che è la memoria, da lei sottoscritta e da Di Maio, in cui in realtà rivendicate delle decisioni collegiali dicendo le determinazioni assunte per la gestione delle procedure di salvataggio in mare, in questo caso si parlava delle 18, sono riconducibile a una linea politica. Il Governo collegialmente ha esplorato la possibilità di un'equa ripartizione tra i paesi dell'UE, degli immigrati a bordo della nave 18, per dare sostanza all'effettiva proclamazione agli impegni assunti. Dopo alcuni giorni di trattativa il Governo collegialmente ha deciso, i suddetti membri del Governo, Ministro delle Infrastrutture, Donino Toninelli e Luigi Di Maio, hanno condiviso le modalità delle operazioni di salvataggio garantendo il rispetto delle condizioni di salute, assicurando che non mancasse cibo, acqua e cure ai migranti, alla luce di quanto rilevato i sottoscritti e firmate lei e Di Maio, dichiarano che le decisioni assunte in merito... Sì, avvocato, ma io non ho capito, ma cosa sta leggendo? Sto leggendo, lei non è che non ha capito, non ha sentito, perché io l'avevo detto... No, avvocato, ma lei le domande deve fare, sta leggendo tutta una serie di dichiarazioni, sta leggendo dei post, non riesco a capire cosa sta leggendo... Sto leggendo una memoria sottoscritta dal signor Toninelli che ha detto che non c'era questa condivisione... E allora io mi oppongo a che le legga la memoria perché deve fare le domande al test, non deve leggere la memoria... E' una memoria acquisita agli atti... Però su questo lei può fare opposizioni, obiezioni, eccetera, però non è che può dire all'avvocato quello che può fare o non può fare... Ma la memoria, Presidente, mi scusi, ma la memoria è in quale sede? La memoria è in quale sede è stata depositata? L'ha detto l'avvocato... Allora, il ministro Toninelli ha detto che... Ma comunque mi interessa poco la mia persona... Che sarebbero state date delle cose false... Io sto rilevando che c'è una memoria, peraltro acquisita agli atti, nella quale sono state dette altre cose e glielo sto sottoponendo... Tutto qui... E lui mi dirà magari che non è una memoria... Ma io ho capito male nell'ambito del processo... Allora, nell'ambito del... Ci sono state varie procedure in Senato... In una di queste, l'ex ministro Di Maio e l'ex ministro Toninelli avevano deciso di votare contro l'autorizzazione a procedere di Salvini e hanno fatto una serie di affermazioni che io stavo leggendo, in cui dichiaravano che c'era una condivisione collegiale. E ora gli si chiede un chiarimento... Siccome lui ha detto noi non abbiamo mai avuto condivisioni collegiali, tra l'altro Presidente accusando me di falso, peraltro il signor Toninelli è già giudizio contro di me, quindi insomma un po' di accredine si comprende, se ci dice come può giustificare queste affermazioni da lui sottoscritte. Tutto qui. Signor Presidente, chiedo la possibilità che specifichi perché ha letto dei pezzi di una memoria ma non l'ha contestualizzata. Di che caso stiamo parlando? Gregoretti, Diciotti, di che cosa stiamo parlando? Diciotti, ecco. E quindi che cosa c'è? Diciotti. Presidente, mi scusi, ma la Diciotti, il caso della Diciotti, Presidente, io non voglio... Ma il caso della Diciotti non è il caso dell'open arms. Il discorso, la domanda è di carattere generale, è stata... Presidente, il Ministro... Siccome ha detto che non ci sono mai state... Condivisioni, io ho letto che ci sono. Condivisioni del Consiglio dei Ministri che riguardavano l'open arms, ne ho capito bene, neanche altre... Neanche altre cose, è che io avrei detto il falso, io sto leggendo le memorie... Io rispondo con piacere. Presidente... Io gli rilego i passaggi, lei mi dice se sono passaggi dalle sottoscritte o meno. Dalle quali sembrerebbe che invece ci fosse stata una condivisione, diciamo, collegiale da parte del Consiglio dei Ministri. Presidente, mi scusi, se do la parola. Io non riesco a seguire, quando l'Avvocato Buongiorno dice, ha detto il falso, ma lo dice nella qualità di Ministra, di Avvocata... Ma che cosa dice, Presidente? No, no, cosa dico? Ma cosa dice? Ma cosa dice? Io sto leggendo una semplice memoria in cui ci sono delle affermazioni diverse rispetto a quelle fatte. Tutto qui. Lei... Allora, lei... Il test è... Avvocato, la domanda è ammessa. Sto cercando di aspettare dei chiarimenti da parte del test. Allora, è doveroso confermare, mettere insieme questa memoria, con il fatto che non ci sia mai stato un Consiglio dei Ministri ufficiale e mai stata una riunione tra Presidente del Consiglio Conte di allora, Ministro dell'interno dell'ora, il sottoscritto, il Ministro degli esteri, è un modo per fare confusione. Confermo che non c'è mai stato un Consiglio dei Ministri, che non c'è mai stata una riunione informale che trattasse l'argomento degli svarchi. Questa memoria riguarda un qualche cosa che non ha niente, niente a che vedere. Un caso di Ciotti, in cui, ma io oramai conosco il modo di fare... In cui si trattava di una imbarcazione di Stato, in cui erano presenti richiedenti asilo su un'imbarcazione, probabilmente la capofila, la più importante di tutte quelle di proprietà dello Stato, come guardia costiera, ma non ha nulla a che vedere. Confermo comunque la collegialità politica della lotta all'immigrazione clandestina. Era scritto nel contratto di governo creato prima della partenza del Conte I, ma quella linea politica condivisa, assolutamente, nel caso di Ciotti non c'entra nulla col caso di specie. È una nave di Stato che può andare ad attraccare ovunque, in qualsiasi porto italiano, cosa che non può fare l'ONG Open Arms, che ha operato senza il coordinamento della Guardia e Consigliere italiana, quindi dell'autorità italiana. Linea politica condivisa di lotta all'immigrazione clandestina e di seria, corretta condivisione della gestione dei richiedenti asilo, questo però non ha nulla a che vedere con un Consiglio dei Ministri che esprimesse un atto governativo diverso dalla linea politica, dove si è deciso, in qualsivoglia caso, chi fa sbarcare, come farlo sbarcare, dove farlo sbarcare. Sì, io volevo sapere, lei conferma però il contenuto di quella memoria, con riferimento al caso di Ciotti, in cui parla di una condivisione delle modalità di operazione di salvataggio? Lo confermo perché ce l'ha Diciotti e non c'è un ONG e il caso è completamente diverso, non ha nulla di simile al caso Open Arms, ma mi pare che la materia del contendere sia la collegialità con cui il Consiglio dei Ministri può operare come opera nell'approvazione di un decreto o di un atto di natura governativa, c'è stato oppure no? No, la collegialità politica c'era, sì, sono due cose diverse. Con riferimento, passiamo al riferimento invece all'Open Arms, si trattava di ONG battente bandiera spagnola? Sì. Aveva fatto trasbordi in autonomia? Sì. Che cosa significa fare trasbordi in autonomia e se si possono fare o si è vietato fare in autonomia? Salvare vite umane è obbligatorio, è anche una nave mercantile che si trova in qualsiasi tipo di acque internazionali, se vede un barchino, un barcone che sta andando a fondo, deve per forza intervenire per salvare vite umane. Cosa deve accadere però dopo? Deve accadere che chi ha salvato vite umane, in questo caso una ONG, debba attivare le procedure previste dalle convenzioni internazionali e nazionali, cosa che nel caso di specie non è stato fatto. Lei ha fatto riferimento, rispondendo alle domande, credo della parte civile, che per lei c'è una condivisione di linea politica, ma che comunque rispetto a questo caso, il punto è però, ecco mi corrego, e casomai chiarisca se non è così, il punto è che casomai prima si fanno sbarcare e poi si fanno i ricollegamenti. Così o lei ritiene che non bisogna sbarcare e fare prima i ricollocamenti? Qual è la sua posizione? La mia posizione è quella di un ministro che ha la responsabilità della Guardia Costiera che opera come autorità di soccorso in mare, la cui responsabilità termina nel momento in cui è attivato il viminale con i dipartimenti preposti, con la richiesta di place of safety. Chi non rispetta il diritto del mare può sbarcare in Italia o no per lei? Questa è una domanda generica che esula dalla gestione e dal coordinamento di un evento SAR. L'evento SAR deve essere coordinato e gestito come le ho detto. La mia opinione è che si debba rispettare la legge che oggi dice che le vite umane vanno salvate e che devono poi essere acquisite le responsabilità delle autorità a seconda delle convenzioni internazionali e nazionali. Lei in data 15 agosto 2019, specificamente con riferimento proprio Open Arms, ha dichiarato in un post avevo firmato anche stavolta per ribadire che chi non rispetta il diritto del mare non può sbarcare in Italia. Confermo, altrimenti non avrei firmato quel decreto, mi pare implicito nella firma del decreto. Quindi, a suo avviso, se c'è una violazione non si deve sbarcare in Italia, è corretto? Dipende dalle fasi del... Per Open Arms lei ha fatto quel post. Se me la lascia rispondere. Dipende dalle fasi del soccorso fino alla successiva richiesta di asilo. Ogni caso è a sé stante. Il 18 lei me l'ha paragonato con l'Open Arms è paragonare una mela con una pera, non c'entra assolutamente nulla. Nel caso di specie va valutato il singolo caso. Nel caso di specie, visto che stiamo parlando di un posto del 15 agosto, lei era favorevole a farli sbarcare o no? Perché dal posto sembra di no. Poi mi dico lei. Io sinceramente mi stupisco, avvocato, che lei equipare un post... No, 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 lei non ci può stupire in niente, mi deve rispondere. Mi risponde la tua. Equiparare un post senza stupirsi con un decreto firmato io lo trovo sinceramente anomalo. Io confermo il decreto, confermo la firma del decreto, confermo di non essere mai stato contattato per spiegazioni particolari dalla loro collega Ministro dell'Interno Salvini, confermo di averlo firmato perché lo ritenevo corretto stante quello che ci siamo detti e di aver firmato solo il primo decreto, non il secondo, per le motivazioni che ho già indicato. Ma lei il contenuto di questo post che ora chiederò di produrre, lo conferma o no? Io confermo il contenuto del decreto e confermo anche il contenuto del post che è evidentemente conseguente al decreto. Per quanto riguarda proprio l'evento Open Arms, lei ricorda che dichiarò che vi eravate messi a disposizione con la Guardia Costiera per accompagnare la Open Arms in Spagna? Sì, come già detto poco fa, fui contattato dal collega Ministro delle Infrastrutture Spagnolo il quale inizialmente si era detto disponibile all'apertura di un porto spagnolo, le cose non andarono bene e eravamo disposti come Guardia Costiera a, nelle nostre funzioni di, in questo caso, accompagnamento, ma saremmo stati disposti anche a trasportare parte dei migranti in un porto spagnolo. Questo lo confermo, certo. Quindi lei, questo posto è del 19 agosto, lei riteneva che c'erano le condizioni per trasferire questi migranti in Spagna con la collaborazione della Guardia Costiera? Io da Ministro cercavo di fare di tutto per trovare una soluzione definitiva al caso Open Arms. Certamente se alla richiesta di POS fatta in conseguenza del provvedimento del TARA fatta dalla stessa Open Arms forse stato aperto un porto italiano io non avrei fatto questo. L'ho semplicemente fatto perché il Viminale non stava, nonostante le richieste, aprendo un Place of Safety in territorio italiano. Quindi mi spiega allora perché nel post lei in realtà dopo aver detto ci siamo messi a disposizione con la Guardia Costiera dice che la ONG ha incredibilmente rifiutato con un atteggiamento che fa sospettare che ci sia malafede da parte loro. Allora qua non bisogna confondere le acque però perché le ripeto... Presidente io vorrei che il test parlasse tranquillamente. No, lo vedo che è per malafede. Allora, quello che voglio dire è la linea politica mi sembra chiara. Siamo tutti d'accordo nel combattere l'immigrazione clandestina. Ci sono delle cose che non vanno? Ce ne sono tante. Ci sono delle cose che non vanno anche per l'ONG? Ce ne sono tantissime. Questo era un caso molto particolare in cui non c'era stato. C'erano varie condizioni di mancato rispetto delle procedure sia di legge o meglio delle norme internazionali e delle procedure conseguenti alle norme nazionali. L'ONG Open Arms non si era comportata in punta di diritto sulla base degli obblighi delle convenzioni internazionali? Sì, non si era comportata in maniera corretta. Questo è assolutamente vero. Alla richiesta di vi accompagniamo noi, vi scortiamo noi prendendo anche parte non intendo come guardia costiera dei richiedenti asilo presenti la risposta è stata negativa. Quello che io vorrei che sia chiaro e sono convinto che è chiaro ovviamente è che questa è una cosa completamente diversa dalla questione apertura o non apertura di un place of safety in Italia. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo il soccorso sia anche o meglio il soccorso non è intervenuto si è reso disponibile per far concludere questo brutto episodio questa brutta vicenda con l'accompagnamento in quel porto spagnolo come sembrava le autorità spagnole aver dato disponibilità. Ma rispetto alle regole di ingaggio insite nelle responsabilità dei singoli digasteri che gravano sulle spalle dei singoli ministri sono come due binari ok? uno va da una parte e uno parallelo all'altro. Sì però il difensore gli chiedeva una risposta su quegli aggettivi quegli avverbi utilizzati per commentare la risposta del cioè il fatto che l'open ars non avesse accettato questo tipo di soluzione che gli era stato prospettato così mi è sembrato di capire. Sì io l'ho letto il post in cui le diceva la ONG incredibilmente ha rifiutato con un atteggiamento che fa sospettare che ci sia malafede da parte loro. Se guardavamo se guardavamo a tutti i comportamenti signor Presidente sì se guardavamo a tutti i comportamenti certamente certamente sì perché la disponibilità ripeto il caso va analizzato nella specifico perché ogni caso di questo tipo è diverso. l'ONG open arms su disponibilità delle autorità maltese non va al porto maltese ma va in mare italiano in acqua italiana l'open arms su disponibilità delle autorità italiane nella fattispecie della guardia costiera di prendersi a bordo i migranti per accompagnarli in Spagna non dà la propria disponibilità non lo so se si dice di solito dopo due o tre indizi potrebbe essere una prova insomma era un'opinione politica era un'opinione che in quel momento mi sono sentito di dare stante il fatto che si poteva chiudere la vicenda Lei ritiene che la Spagna diede la sua disponibilità con ritardo? Sì Perché? Perché c'è anche una responsabilità politica delle singole nazioni e perché erano parecchi giorni che quella nave pendolava di fronte alle coste italiane quindi era un caso sì però quello che contava era per me era importante non tanto tenerli anzi tenerli sto parlando ora esulando delle competenze mie di allora era il ricollocamento perché bisogna capire che accompagnare una nave ONG a centinaia di chilometri di navigazione attraverso una imbarcazione della guardia costiera non è un'anomalia di più la prassi è farli sbarcare identificarli e ridistribuirli questa è la prassi e il nodo della vicenda è lo sbarco quando sì no ma non può essere intesa come una fattispecie ordinaria quella di cui stiamo parlando dell'accompagnamento in un altro stato per aprire un porto a distanza di centinaia di chilometri una fattispecie di questo tipo sono bisogna farli sbarcare nel posto nel porto sicuro più vicino pos aprire un pos identificarli metterli in salute far rimpatriare chi non ha diritto di protezione internazionale e ridistribuire quelli che hanno diritto questo è mi scusi quando lei con riferimento a questo ragionamento però ha note in un posto del 15 agosto sempre proseguendo quello che avevo letto prima avevo firmato anche stavolta per ribadire che chi non rispetta il diritto al male non può sbarcare in Italia quel decreto è stato bocciato dal tar e metterne un altro identico per farselo bocciare esporrebbe la parte seria del governo che non è quella che ha tradito il contrattasto ridicolo questo non significa che dobbiamo accogliere i migranti di open arms la mia e la nostra linea non cambia mettiamo in sicurezza la nave come ci chiedono i giudici poi l'Europa e in primis la Spagna la cui bandiera sventola sulla open arms iniziano a assumersi le proprie responsabilità facendosi carico di assumere 116 migranti che sono a bordo della nave noi come Italia interveniamo per tutelare i 31 a bordo che sono in situazioni di pericolo lei conferma questo post di fatti parlo di sbarco al primo decreto e di accoglienza successivamente e ripeto quello che ho appena detto l'accoglienza fa parte dei ricollocamenti e delle assegnazioni di queste persone ai vari stati che condividono a livello europeo il problema dell'immigrazione quindi lei ritiene che voi avevate una sorta di obbligo sullo sbarco giusto? obbligo sullo sbarco può specificarmi la domanda? allora io le ho chiesto e le continuo a chiedere esiste secondo lei nel caso di specie o in altri casi quando ci sono dei migranti a bordo l'obbligo da parte dell'Italia di sbarco e poi del ricollocamento oppure è sufficiente assicurare la sicurezza della nave e fare la ridistribuzione cioè devono rimanere sulla nave o devono sbarcare qual è la sua posizione? bisogna valutare ogni singolo caso non può esserci una risposta univoca per casi completamente differenti tra di loro bisogna analizzare ogni singolo caso perché i diritti costituzionali che entrano in ballo in una situazione di questo tipo sono molti si intrecciano tra di loro entrano all'interno di competenze di diversi ministeri di molti ministeri certamente anche della presidenza del consiglio quindi il caso di spese tra l'altro sbarco è stato imposto dall'autorità dalla magistratura neanche da 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 quindi signor Avvocato non c'è una risposta univoca alla sua domanda perché non esiste senta lei ricorda se come ha commentato la decisione della corte di Strasburgo rispetto agli obblighi dell'Italia sugli sbarchi ripeta la domanda qual è ricorda se come ha commentato la decisione della corte di Strasburgo sugli sbarchi in relazione in quel caso si faceva riferimento a Sea Watch Presidente c'è opposizione la domanda appare assolutamente rilevante rispetto al capo di imputazione si tratta degli obblighi di sbarco sì ma di un principio allora io credo Presidente che c'è un tema fondamentale che forse vado affrontato il tema obbligo di sbarco non obbligo di sbarco non è che riguarda solo una nave riguarda una pluralità di casi siccome il signor Toninelli ora sta dicendo che per lui non si capisce se c'è un obbligo di sbarco o meno c'è una decisione che ha parlato di questo e lui l'ha pubblicamente commentata sull'obbligo di sbarco non obbligo di sbarco voglio sapere se lui ricorda quali sono i doveri dell'Italia sull'obbligo di sbarco Presidente si reitra l'opposizione il processo ha un capo di imputazione ben delineato una data ben fissa e un imputato altrettanto individuato quindi l'opposizione la domanda è messa intanto però deve ricordare il commento che aveva mi ha già risposto su questo vuole che gliele leggo il suo commento si se mi specifica mi contestualizza per favore mi farebbe una cortesia nel senso trovare spezzoni di dichiarazione altra complicato a distanza di anni dopo escono le notizie non ricordo inventati come è accaduto pochi mesi fa la corte di Strasburgo si espresse voi eravate al governo lei era ministro delle infrastrutture il 29 gennaio 2019 su quelli che erano gli obblighi o non obblighi dell'Italia con riferimento alla Sea-Watch e soprattutto con riferimento a quando l'Italia ha un obbligo di sbarco e quando invece debba in qualche modo garantire soltanto viveri salute eccetera lei fece un post ricorda quel post ricorda cosa disse su questi obblighi le chiedo per favore me lo consegna che posso rivederlo non so neanche l'anno anche la corte allora è il gennaio 29 2019 lei dice anche la corte di Strasburgo ci dà ragione al governo è da torto alla Sea-Watch dobbiamo garantire ai migranti viveri cure e assistenza adeguata ed è quello che stiamo facendo non abbiamo obblighi sullo sbarco non li faremo sbarcare finché la UE non batta un colpo avanti così allora se posso presidente quella sua domanda avvocato rientra già nelle varie dichiarazioni che ho dato nel senso che c'è un'interpretazione delle normative internazionali pare l'IMO del 2004 dove si potrebbe ipotizzare la fattispecie del POS all'interno dell'imbarcazione stessa nel caso in cui però vengono garantiti i diritti fondamentali delle persone tra cui quella della sicurezza della salute e così via questo potrebbe far pensare che sulla stessa imbarcazione in una futura modifica e integrazione delle norme operative internazionali possa essere effettuata l'operazione di richiesta di asilo direttamente all'interno dell'imbarcazione questo è la situazione nella prassi nella prassi non si è mai scusate in tutti i casi che abbiamo visto in questi anni non si è mai aperto un POS sull'imbarcazione se solo ipotizzato a livello di diritto a livello di dibattito di dottrina di diritto di identificarlo il place of safety e non si è escluso che si possa identificare sull'imbarcazione stessa nel caso in cui sono in salute le persone sono protette sanità alimenti insomma sopravvivere con il rispetto dei diritti dei diritti umani a domanda questa considerazione si è poi espletata in un'integrazione di una norma internazionale che dicesse sussistendo determinate condizioni il place of safety è identificabile anche sull'imbarcazione che ha soccorso i migranti la risposta è no quindi alla sua domanda le devo rispondere sull'obbligo meno di sbarco che deve essere considerato ogni singolo caso va bene ho finito presidente il pubblico ministero deve porre domande il tribunale non ha domande da porre al testo possiamo ringraziarlo una buona giornata grazie a tutti a rivederci sospendiamo cinque minuti ma no di più introduciamo il test grazie questa è la stamattina questa è la stamattina attenzione bene buongiorno viene sentita come test all'obbligo di dire la verità il nostro ordinamento prevede delle sanzioni severe nei confronti dei testi falsi e reticenti dovrebbe leggere quella formula con la quale si impegna a dire il vero voce alta consapevole della responsabilità morale e giuridica no no ci andiamo insieme dovrebbe rileggere la cortesione ok consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza perfetto ora dovrebbe fornire le sue generalità al cancelliere Tiziana Liguori nata a Crotone il 20 maggio del 1965 perfetto grazie il pubblico ministero ha chiesto il suo esame può procedere sì grazie presidente buonasera dottoressa che tipo di attività svolgeva nell'agosto 2019 all'interno del ministero degli interni io ero responsabile della seconda divisione del servizio immigrazione della direzione centrale dell'immigrazione della pulizia delle frontiere in qualità di responsabile della seconda divisione ero tra le mie competenze principali vi era l'analisi dei flussi migratori illegali via mare e il coordinamento dell'attività del centro nazionale di coordinamento per l'immigrazione il cosiddetto NCC giusto? esatto e che cos'è molto in breve se ci può spiegare l'NCC qual è il ruolo come funziona? allora il centro nazionale di coordinamento per l'immigrazione risponde praticamente a una doppia esigenza del legislatore nazionale prima ed europeo è stato realizzato nel 2012 in ottemperanza le disposizioni normative della legge 189 2002 che hanno previsto un affidato alla direzione centrale dell'immigrazione della pulizia delle frontiere il coordinamento le attività di coordinamento impulso per il contrasto all'immigrazione illegale via mare di tutte le amministrazioni che a vario titolo erano coinvolte in questo fenomeno poi con il regolamento Eurosur del 2013 praticamente è stato disposto che ogni stato membro avesse praticamente un NCC un centro nazionale di coordinamento che serviva da collettore delle informazioni non soltanto da trasmettere non soltanto all'agenzia Frontex ma anche per la condivisione con tutti gli stati dell'Unione Europea quindi nel centro nazionale coordinamento ex sala operativa confluiscono tutte le informazioni riguardo l'attività di contrasto dell'immigrazione illegale via mare e per questo motivo ci sono anche i rappresentanti di tutte le forze di polizia e delle forze armate che assicurano con praticamente il collegamento con tutte le sale operative delle amministrazioni che a vero titolo sono coinvolte in questo tipo di attività ma solo per il contrasto all'immigrazione diciamo dal punto di vista repressivo anche in relazione al coordinamento per le attività di salvataggio search and rescue relievo e così via no per quanto riguarda no l'attività di contrasto all'immigrazione è legale via mare l'autorità nazionale per quanto riguarda il salvataggio il search and rescue è la capiteria di porto quindi la guardia costiera ci può dire cosa prevede la procedura in caso di recupero e successivo sbarco sbarco di migranti in particolare in relazione alla competenza sulla designazione del post a chi spettava nel 2019 ma anche ora penso non sia cambiato allora per quanto riguarda l'assignatore del place of safety praticamente tutte le attività di cerchio e soccorso sono coordinate dalla guardia costiera della capitale di porto però per quanto riguarda l'indicazione proprio del posto siccome ci sono una serie di esigenze che devono essere salvaguardate è stato stabilito praticamente che il ministero dell'interno con ovviamente il coordinamento di tutte le attività che operano a mare si decida quasi nella designazione del place of safety perché chiaramente nel momento in cui c'è uno sbarco di migranti ci sono tutta una serie di attività esatto quando NCC riceve una richiesta di post poi in concreto a chi la invia chi coinvolge diciamo allora la richiesta di place of safety viene mandata dal comando generale del corpo delle capeterine di porto al NCC e anche praticamente a tutti i ministeri che sono interessati infatti praticamente viene mandata tramite un accordo tecnico operativo che è previsto praticamente dal decreto interministeriale del 14 settembre del 14 luglio del 2003 e in indirizzo c'è l'ufficio di gabinetto ovviamente del ministro dell'interno della capire di porto viene indicato il ministro degli affari esteri il ministero della distanza un bel po' di autorità esatto nel periodo in cui lei è stata direttore della seconda divisione non so se lo è ancora ci sono stati dei mutamenti nelle procedure di assegnazione del POS o è rimasta sempre la stessa la procedura? allora inizialmente c'erano delle procedure delle SOP standard operating procedures che praticamente prevedevano che per quanto riguardava la designazione della POS fosse sempre il ministro dell'interno ovviamente questa è un'attività della capire di porto però era previsto che per la designazione del luogo di sbarco cioè di dove far sbarcare i migranti fosse il dipartimento per libertà civile e l'immigrazione che è il dipartimento che gestisce il settore dell'accoglienza nel 2019 essendo cambiata tutta una serie di cose in particolare noi avevamo avuto praticamente la commissione europea che aveva lamentato il fatto che spesso che in Italia c'erano praticamente i migranti visto l'ingente numero di migranti venivano spaschettati in vari centri in vari centri si chiamavano CAS o centri di accoglienza straordinari quindi la commissione europea aveva richiesto che ci fosse un hotspot approach nel senso che venissero smistati esclusivamente negli hotspot e poiché dal 2019 poiché c'erano stati praticamente una drastica riduzione una sensibile riduzione degli sbarchi in Italia e si sapeva dove mandarli nel senso che in via prioritaria bisognava mandarli negli hotspot all'epoca dei fatti c'erano quattro hotspot quindi praticamente è stato deciso che con un verbale di un tavolo tecnico che i migranti venissero praticamente che queste informazioni venissero dilottate sulla direzione centrale dell'immigrazione e non più sul dipartimento per la libertà civile e l'immigrazione quando lei dice 2019 quando esattamente nel 2019 se lo ricorda quando in che senso quando si modifica questa assegnazione dal dipartimento libertà civili alla direzione nel febbraio 2019 febbraio 2019 nel caso dell'open arms che lei sicuramente ricorda quello dell'agosto 2019 io ero in congedo sono rientrata il 19 però ovviamente ho preso il fascicolo lei è in ferie esattamente quando in quel periodo io ero in ferie sono rientrata in ufficio il 19 agosto successivamente lei ha avuto modo di visionare gli atti beh ovvio mi sembra abbastanza evidente nel caso dell'open arms la sala operativa della NCC a chi trasmette le richieste di assegnazione del POS che arrivavano dal comandante dell'open arms allora noi le rigiravamo al gabinetto del ministro ma il gabinetto del ministro era già in indirizzo comunque da parte di Mari Cogge quindi della capitale di Porto lei viene sentita su questi fatti alla procura di Agrigento nell'1 ottobre 2019 e produce un cd se lo ricorda con una serie di documenti alla procura di Agrigento io non sono stata sentita dalla procura di Agrigento e sono venuti loro a Roma è chiaro quello che rileva è l'ufficio non il luogo viene sentita sempre dalla procura di Agrigento anche se vi trovavate diciamo in un'altra parte quindi l'intestazione del verbale è procura della Repubblica presso il tribù di Agrigento viene sentita dalla procura di Agrigento dal dottore Vella e altri e produce un cd con una serie di documenti si ricorda che documenti c'erano in questo cd allora io ricordo che è venuta la procura di Agrigento in ufficio successivamente sono stata sentita e ricordo che avevano praticamente preso tutta una serie di documenti che non ho dato io personalmente ha dato il mio ufficio quindi che riguardavano se non mi sbaglio tutti gli sms che noi condividevamo noi avevamo avevamo un sistema di messaggistica istantanea che veniva utilizzata poiché ovviamente c'erano gli sbarchi c'erano non all'orario di ufficio per essere sicuri vista la sensibilità della materia che tutti ricevessero le informazioni non appena in tempo quasi reale avevamo un sistema di messaggistica istantanea che coinvolgeva tutti gli attori principali che erano interessati dei flussi migratori illegali in effetti in questo cd che noi chiederemo per riprodurre all'esito della deposizione vi è un primo file che è l'elenco dei destinatari istituzionali dei messaggi inviati da NCC un secondo file che è una tabella excel con i tabulati dei messaggi sms inviati dalla sala operativa del NCC tra il 14 e il 21 agosto 2019 e la stampa dei messaggi inviati dal 18 al 21 agosto dall'NCC compreso la sintesi mattinale eccetera quindi voglio fare una serie di domande su questi documenti partiamo dall'elenco dei destinatari istituzionali dei messaggi inviati da NCC già l'ha detto più o meno chi erano i destinatari in linea di massi a cui poi voi riversavate questi messaggi ma se la fila penso che sia abbastanza lunga c'erano dal capo della polizia al vice capo della polizia al direttore centrale della divisione anticrimine direttore centrale della polizia di prevenzione il capo di gabinetto del ministro vari funzionari del gabinetto del ministro e il vice è questo elenco qui di circa 40 sì esatto a lei arrivavano ogni giorno quindi questi messaggi sms e che facevano ne redigiamo una sintesi cosa faceva poi questi messaggi non lei chiaramente immagino qualcuno nel suo ufficio allora no non si faceva una sintesi questi messaggi mi arrivavano non ogni giorno mi arrivavano ogni minuto praticamente perché la funzione era quella di aggiornare in tempo reale tutti quelli che erano più o meno interessati a questo fenomeno quindi poi c'era praticamente anche il brogliaccio ma il brogliaccio aveva un valore indicativo perché appunto con gli sms noi eravamo costantemente aggiornati su quello che succedeva tra i destinatari ovviamente c'erano anche i vertici del gabinetto del ministro dell'interno c'era il capo di gabinetto io le mostro questa stampa di questa sintesi mi dice se è questo questa sintesi di questi messaggi inviati tra il 18 agosto 2019 e il 21 agosto 2019 è stampato avvocato dal cd questo prodotto in sede di audizione ma devo leggerlo tutto no 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 mi conferma che è questo questo documento che lei ha dato alla procurazione sì cioè la sintesi di questi messaggi sono questi messaggi sì erano erano questi insomma sì da questa sintesi di questi messaggi ci può dire quanti erano stati gli sbarchi di migranti nel territorio italiano tra l'1 gennaio 2019 e il 18 agosto 2019 che è il dato che lei trova dove lo trovo all'inizio il numero di migranti sbarcati dal gennaio 2019 al 18 sbarcati dall'1 1 a erano 4369 e qual era il numero invece di sbarcati dall'1 gennaio 2018 al 18 agosto 2018 19 2345 quindi tra il 2018 e il 2019 nello stesso periodo c'era stato un decremento che viene evidenziato in questo mattino sì esatto pari a quanto il decremento meno 77,42% meno 77,42% andiamo allo sbarco dell'open arms con 147 migranti nel momento in cui viene individuato a 58 miglia da Lampedusa e a 88 miglia da Malta come voi evidenziate dopo l'ingresso tra dell'open arms nelle acque territoriali nel 14 agosto 2019 vi furono delle interlocuzioni tra la divisione del servizio immigrazione e il ministero dell'interno e se chi all'interno del ministero dell'interno immagino l'ufficio di gabinetto per l'assegnazione del POS all'open arms guardi lei mi sta sta parlando del periodo 14 agosto 2019 io ero sinceramente in congedo quindi non ma dico lei successivamente ha avuto modo di visionare l'è stato chiesto di redigere un appunto per il capo della polizia su queste vicende guardi io sinceramente non ricordo se ho fatto un appunto comunque posso parlare sulla base di quello che era sull'esame degli atti però se lei mi chiede se ci sono state delle interlocuzioni all'interno del gabinetto del ministro sul fatto se assegnare meno un posto questo io non lo posso sapere sinceramente perché non c'ero quindi poi generalmente le interlocuzioni per quello che io ne so avvenivano tra tutti i vertici istituzionali quindi quando lei rientra in servizio le viene richiesto di redigere un'analisi della situazione uno schema un appunto a chi e per quale ragione io sinceramente questo appunto il capo della polizia comunque può darsi sì che l'abbia fatto se me lo fa vedere sicuramente lo farò posso dire se sì perché appunti ne facevamo tipo 50 al giorno quindi onestamente non penso 50 al giorno per il capo della polizia guardi ne facevamo appunto che al capo poi cambiava ministro ne facevamo tanti però sinceramente sono passati tre anni quindi appunti al capo ne ho fatti parecchi se me lo fa vedere dico subito se l'ho fatto che data porta innanzitutto uno del 19 poi c'è uno del 20 ah no ma questi sono gli appunti al vice capo della polizia dove facevamo praticamente sì ma sono quello che succedeva durante il giorno in questo appunto che appunto abbiamo mostrato è un appunto redatto dal test per il vice capo della polizia sulla vicenda open arms del 19 agosto di quando rientra dalle ferie sì ma chiedo scusa io pensavo che fosse un appunto riepilogativo di tutto quello che era successo ah no no ok no io l'ho detto questo in relazione in questo appunto le fa riferimento agli eventi del 17 18 19 agosto quindi dei tre giorni precedenti in relazione al 18 agosto le risulta che alcuni dei migranti dell'open arms si erano gettati a mare cinque migranti si sono buttati a mare sono stati ripresi dalla stessa energia riportati sulla nave sempre da questo appunto le risulta quali furono le richieste del comandante della open arms in data 18 agosto 2019 18 agosto chiedeva di sbarcare i migranti immagino avvisato la mia mail a tutti i referenti di Sistema chiedendo di autorizzare la nave a fare ingresso nel porto di Lampedusa e di consentire lo sbarco dei 107 migranti a bordo o comunque il loro trasferimento su nave a Edonia a raggiungere il porto spagnolo di Algeciras quindi il comandante delle chiese il trasferimento anche su nave idonea per trasportarli in un altro porto io ricordo che ci sono ci furono varie interlocuzioni su questo ribadisco il 18 ancora non ero presente in ufficio però mi ricordo che c'erano delle interlocuzioni tra la capitaneria di porto e il comandante della nave per chiedere perché la capitaneria di porto voleva sapere di che cosa l'ONG avesse bisogno per poter andare nel porto spagnolo che le era stato assegnato e tra l'altro non sempre queste risposte erano tempestive erano ritardate quindi c'era una situazione di stallo il 20 agosto lei fa un'ulteriore comunicazione che è l'altro foglio che si chiama appunto per esempio per il signor vice capo vicario della polizia quel giorno il 20 agosto quanti migranti si erano gettati a mare il 20 agosto 8 qualcosa del genere è sicura? no sicura non lo sono perché non lo posso ricordare tutti i migranti che erano buttati a mare però lo leggerò da qua se mi aiuta anche lei alle ore 8 e 20 c'è una prima segnalazione alle 8 e 20 quanti migranti si gettano a mare uno dei migranti a bordo della nave reggis era tuffato in mare iniziando a notare alle 11 e 30 e 9 migranti e alle 13 e 10 altri 10 migranti altri 10 migranti il comandante cosa comunica all'esito di questa comunicazione di queste successive informazioni relative a questi migranti che si buttavano in acqua che non era in condizioni di poter andare nel porto spagnolo che a quel punto non era più la Spagna si era dimostrata favorevole a poter dare un altro porto più vicino che era quello alle Baleari si ma in relazione mi scusi ma in questo appunto lei cosa evidenzia alla fine in relazione a quello che il comandante in cui il comandante informa nella mail inviata che non poteva assicurare la gestione di questi 19 migranti da portare a Spagna quindi chiedeva il trasferimento su direttamente su un'altra nave della Capitaneria di Porto si ma il numero di 19 migranti da dove lo trova 19 persone di equipaggio quindi aveva solo 19 perché i migranti erano 170 non erano si però praticamente ricordo che la Capitaneria di Porto aveva offerto di trasbordare alcuni migranti e di praticamente di ausiliare quindi la ONG nel raggiungere il porto spagnolo e lui comunica che lo poteva fare o no avendo questa situazione a bordo di lui ha comunicato di non poterlo fare Presidente noi non abbiamo altre domande e chiediamo di produrre questo cd contenente questi documenti cui ho fatto riferimento incluso questi due appunti per il Vice Capo della Polizia su questa richiesta i partiti civili si associano si associano la difesa non l'osserva il Tribunale ne dispone l'acquisizione le parti civili devono porre domande si Presidente l'Avvocato Pasquilino per le parti civili buongiorno dottoressa buongiorno l'informazione lei ha partecipato al tavolo tecnico a febbraio del 2019 partecipato e verbalizzato quello del settembre 2019 il 15 settembre 2019 il 15 settembre non ricordo se sta parlando di quello del febbraio si del 15 settembre 2019 non ricordo c'è un resoconto del tavolo tecnico di coordinamento del contrasto dell'immigrazione legale via mare accordo tecnico operativo del 14 settembre 2005 15 settembre 2019 dovrebbe essere allegato agli appunti che ha dove risulta la sua presenza la domanda è quale si no allora questo è qual è la differenza tra i due tavoli tecnici in ordine all'approccio del fenomeno del salvataggio dei nafroghi in alto mare cosa si decisa nei due tavoli tecnici guardi allora io sinceramente questo qua del 15 settembre adesso non lo ricordo perché è passato molto tempo però le dico che per quanto riguarda i tavoli tecnici il tavolo tecnico discende praticamente dall'accordo tecnico operativo cioè che prevede che tutte le amministrazioni che siano in qualche modo coinvolte nell'attività di contrasto all'immigrazione illegale via mare abbiano questo momento di unione in cui praticamente si prendono determinate decisioni quindi il ministero dell'interno non ha potere per quanto riguarda il search and rescue perché l'autorità nazionale in materia di search and rescue è il comando generale della capitania di Porto ok no il ministero dell'interno invece rientra in qualità di contrasto all'immigrazione illegale via mare adesso io non so qua in questo verbale qual è l'elemento determinante però voglio dire nei tavoli tecnici partecipano tutte le amministrazioni quindi c'è lo Stato Maggiore della Difesa la Marina Militare la Capitana di Porto la Guardia di Finanza la Direzione Centrale dell'Immigrazione e si profilano tutta una serie di elementi ma quello che noi laddove la Direzione Centrale dell'Immigrazione entra in gioco è quando c'è l'attività di contrasto quindi può coordinare soltanto questo tipo di attività il dominus in tema di search and rescue rimane sempre la Capitania di Porto sì mia domanda era diversa cosa lei ricorda era presente in due i tavoli tecnici ricorda cosa fu deciso appunto per quanto riguarda le competenze del Ministro a cui appartiene in ordine all'approccio proprio cosa fu deciso nel febbraio e nel settembre se lo ricorda nel febbraio io me lo ricordo bene perché appunto fu praticamente stabilito che le richieste di place of safety quindi la decisione su dove sbarcare i migranti non sul quando sbarcare o sul come sbarcare i migranti erano alla Direzione Centrale dell'Immigrazione settembre e non più il Dipartimento per la Libertà Civile dell'Immigrazione settembre io c'ero sicuramente però appunto vedo hotspot approach quindi quello che ho detto prima quindi non vedo la differenza sinceramente allora leggo una parte del verbale del documento redatto all'esito dell'incontro del 15 settembre dove esattamente è l'allegato a 1 già prodotto a pagina 2 dove il secondo capoverso viene parlato appunto del nuovo approccio nel settembre del 2019 che è un nuovo indirizzo che viene dato a tutte le amministrazioni interessate per cui si parla di riqualificazione rispetto quindi a quando era stato determinato nel febbraio 2019 dell'intervento di recupero dei migranti in alto mare da parte delle ONG in termini di evento di soccorso e non di immigrazione irregolare cosa significa cosa significa ha trovato questo passo dottoressa si sto leggendo chiedo scusa prego di qualificazione dell'intervento di recupero di migranti in alto mare da parte dell'NG in termini di evento di soccorso e non di immigrazione irregolare non richiede pertanto l'applicazione delle procedure concordate con l'allegato del 12 febbraio 2019 quindi vi è un cambio di istruzioni cosa si intendeva se può precisare visto che era comunque presente praticamente l'intervento di recupero dei migranti in termini di evento di soccorso e non di immigrazione irregolare non richiede pertanto l'applicazione delle procedure concordate con l'allegato verbale del 12 febbraio richiamando quindi il ruolo centrale del corpo dell'epoca di aborto in tema di soccorso e ha proposto di notare il senatore del paese di la luce delle contingenti esigenze del territorio rappresentate dal Dipartimento per libertà civile e l'immigrazione quindi vuole dire di rimettere nuovamente il Dipartimento per libertà civile dell'immigrazione in termini di accoglienza per capire dove far sbarcare i migranti per gli stessi fatti per le medesime vicende cioè di salvataggio delle ONG in afro in alto mare prima nel febbraio viene detto che deve essere comunque trattata come immigrazione clandestina e nel settembre un analogo evento deve essere considerato come operazione di salvataggio e questo che viene riportato praticamente viene riportato sì e non di immigrazione regolare quindi non è il prefetto bontempi che può dire può qualificare perché se l'evento è di immigrazione regolare o di immigrazione o se è un soccorso o è un evento di immigrazione illegale questo lo può dire esclusivamente il comando generale del corpo delle capitele di porto perché sono loro l'autorità nazionale allora qui si fa riferimento agli stessi eventi e si precisa che dopo questo tavolo tecnico deve essere considerato come evento di soccorso e non come al 12 febbraio che era invece considerato a prescindere come fenomeno di immigrazione clandestina e quindi la domanda allora però le posso dire una cosa probabilmente questo questo verbale era stato fatto dopo che c'era stato l'accordo di Malta cioè in cui quindi era stato deciso praticamente che ci fosse la distribuzione dei migranti ok quindi probabilmente questo verbale ora ricordo un attimo è stato effettuato dopo che ci fu un accordo a Malta in cui tutti i paesi dell'Unione Europea molti dei paesi tra cui la Francia e la Germania avevano stabilito perché nel febbraio del 2019 si voleva cercare di ottenere la redistribuzione dei migranti cioè nel momento in cui una nave quindi salvava i migranti il fine era quello di coinvolgere gli altri paesi affinché ci fosse un'equa di distribuzione dei migranti tra parte di tutti gli stati membri a settembre ci fu a Malta ci fu un accordo per cui tutti gli stati europei si erano impegnati nel distribuire questi migranti e quindi era cambiato anche questo approccio nel senso che una volta che c'era una responsabilità condivisa da parte di tutti i paesi allora in questo caso ci si faceva carico appunto ecco perché si parlava in questo caso di eventi di soccorso no in realtà l'accordo in Malta è successivo del 23 settembre questo è il tavolo tecnico del 15 settembre ma non è che l'accordo si fa ci sono tutti dei lavori preparatori prima e quindi conferma che lo stesso evento col tavolo tecnico veniva indicato come immigrazione clandestina allora confermo mi scusi faccio finire la domanda è successivamente lo stesso evento viene qualificato come evento di soccorso a parità di normativa invariata come è possibile la data la spiegazione la data no se è possibile se mi conferma che è così allora la qualificazione ribadisco per quanto riguarda confermo quello che c'è scritto qua però voglio dire che la qualificazione giuridica se un evento è di soccorso o se un evento è di immigrazione irregolare o meglio se un evento è di soccorso la può dare soltanto il comando generale del corpo delle capetine di porto sono loro i dominos se è immigrazione irregolare se non è 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 se c'è il rescue è immigrazione irregolare non ne conosco un'altra non c'è una terza definizione chi è che determina che si tratta di immigrazione irregolare se la capetine di porto non dichiara che è un evento SAR l'evento è di immigrazione irregolare quindi è di competenza non c'è una dichiarazione se c'è un SAR c'è una dichiarazione se non c'è una dichiarazione vuol dire che è un evento di immigrazione irregolare In automatico quindi? Se non è un soccorso non c'è un terzo genere. In ordine al ricollocamento dei naufraghi che venivano salvati, quali istruzioni avevate? Allora per quanto riguarda la redistribuzione non me ne occupavo io, però praticamente la mia unica funzione quando stavo al centro nazionale di coordinamento per l'immigrazione era quello di cercare di capire la composizione dei migranti che erano a bordo delle navi per darli al Dipartimento per le Libertà Civili e che poi li avrebbe dati, non so se al gabinetto del Ministro, alla Commissione Europea per provvedere alla redistribuzione. Quindi noi cercavamo di distinguere, di sapere anche dal comandante della nave se c'erano dei nuclei familiari, se c'erano uomini, donne, più o meno la nazionalità in modo da poter iniziare la redistribuzione. Ma la procedura a voi comunicata prevedeva che dovevano i naufraghi prima essere fatti sbarcare oppure tutto doveva avvenire sulle imbarcazioni delle ONG? Era una precisazione sulle vostre istruzioni? Io non avevo istruzioni in questo senso, io dovevo soltanto limitarmi a dire qual era la composizione delle persone, le nazionalità delle persone che erano a bordo delle navi per poi procedere alla redistribuzione. Nell'epoca in cui io dirigevo il centro nazionale di coordinamento la funzione era quella di dovevano stare prima sulle navi e poi potevano essere distribuiti. Ma quello dovreste chiederlo, non a me e a qualcun altro. Perché sulla redistribuzione, penso alla presidenza del Consiglio dei Ministri, alla gabinetto del Ministro. Lei ha avuto interlocuzioni con la gabinetto del Ministro nella vicenda Open Arms quando rientrò dalle sue vacanze? Io mi sentivo generalmente con dei funzionari del gabinetto del Ministro anche, ma ribadisco per ricevere informazioni sulla composizione del numero delle persone che erano a bordo della nave, delle imbarcazioni. Con chi ha avuto interlocuzioni e quando? Con la dottoressa, quando? Sinceramente non me lo ricordo, comunque mi sentivo frequentemente con la dottoressa Piccarreta. Ha anche parlato del dottore Mattei? Anche con il dottor Mattei. E come comunicavate? Quali erano i mezzi comunicati? Che tipo di comunicazioni e come comunicavate? Comunicavamo via filo? Ah, telefonicamente? Sì, perché erano delle interlocuzioni che non portavano a niente, cioè cercare di capire un attimo quanti uomini ci sono, quanti donne, ci sono nuclei familiari. E in queste interlocuzioni con il gabinetto del Ministro si è mai parlato dello sbarco probabile dei migranti, delle condizioni sanitarie o no? Io trasmettevo quello che comunicava la Capitania di Porto, dove tra l'altro loro erano in indirizzo insieme a tanti altri gabinetti dei Ministri. La risposta è sì o no? Si è mai parlato all'interno del Ministro? Questa è quella che arriva, Presidente, non è che tipo qui... È una forma per chiedere un chiarimento, la risposta è l'affermativa o negativa? Se abbiamo mai parlato del POS? Sì, dello sbarco? No. No. Lei ha conoscenza della richiesta del Capo del Tribunale dei Premiorenni e della Procura dei Minori in ordine al divieto di rispingimento dei minori che erano a bordo dell'Open Arms? Io ho acquisito dal fascicole, ho visto praticamente che i minori erano stati sbarcati il 17 agosto, ma le interlocuzioni con il Procuratore non le conosco e comunque generalmente lo sbarco viene fatto dal Prefetto competente per contribuire allo sbarco dei minori e penso che le interlocuzioni, come ho visto, erano con la Prefettura. Qual era la catena di comando in questo caso? No, la catena di comando su questo non c'è il Ministro dell'Interno, dipende dalla Procura che interlocuisce con il competente autorità di pubblica sicurezza. Lei aveva notizia che sull'imbarcazione dell'Open Arms vengono richiedenti asilo? Chiedenti asilo, sicuramente ci sono delle procedure per la richiesta di asilo, quindi le richieste di asilo c'è la legge che stabilisce che quando si arriva bisogna farle all'autorità di pubblica sicurezza, non a bordo della nave. Lei aveva notizia che avevano delle persone che avevano fatto la manifestazione di volontà di fare richiesta di asilo a bordo dell'Open Arms? Probabilmente sì. Si attivò su questo, diede comunicazione al capo del gabinetto, vienono esercizi di un diritto costituzionale, fu sollevata la questione o no? Era a conoscenza. Ma se era a conoscenza nel momento in cui sarebbero sbarcate in Italia o in un altro porto avrebbero potuto tranquillamente richiedere la protezione internazionale? Quindi non diede alcun effetto rispetto alla vostra politica il fatto che viene richiedendo asilo? Io non faccio politica, io sono un tecnico. No, politica è lo sbarco perché abbiamo visto, me l'ha confermato che, se ho compreso bene, che il tavolo tecnico del febbraio si era stabilito che i salvataggi erano classificati come immigrazione clandestina, quello di settembre no. Secondo me dipende molto da come viene effettuato il salvataggio o il recupero dei migranti. Bisognerebbe andare a monte più che, bisognerebbe avere un inizio e non una fine. Che significa come avviene il salvataggio? Allora, se c'è un salvataggio, praticamente vuol dire che c'è... La domanda non è messa, avvocato. Andiamo avanti. Nessun'altra domanda, grazie. Presidente, buongiorno dottoressa, avvocato Maria Antonio Angelelli per le parti civili. Senta, io ho una precisazione. Lei ha detto di essere ritornata al lavoro il 19 agosto del 2019 e ha redatto questo appunto per il signor vice capo vicario della polizia. Io volevo un chiarimento ed eventualmente una conferma su quanto riportato per il giorno 19 agosto. per quanto riguarda il porto di Lampedusa, per il centro di Lampedusa e per la sua capienza. Perché lei dà dei dati molto precisi, diciamo. Io le volevo chiedere, se li conferma ovviamente, e da dove li acquisì questi dati? Beh, li acquisì ovviamente dal centro di Lampedusa. Per quanto riguarda gli sbarchi, noi ci aggiornavamo continuamente. Quindi i dati, se sono scritti, è perché sono stati acquisiti. Perfetto, quindi il centro di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa, il 19 agosto, lei dice, scrive insomma, erano presenti 99 persone? Allora no, ci dice, sono attualmente presenti 82 migranti. Allora, sono sbarcata la punta di cose di certe cose, dicendo che in quel GPSA, c'è anche la nota, sono attualmente presenti 86 migranti, 82 uomini, due donne, due minori non accompagnati, ai quali si aggiungono i 37 migranti, presumibilmente di nazionalità tunisina, in seguito all'evento in corso sull'isola. Poi ci sono i dati, 17 agosto, 27, i dati degli sbarchi, 18 agosto, 16, e poi c'è per un complessivo di 99 persone, perché viene incluso anche quelli che stanno arrivando. Perfetto, quindi c'erano 86 e quindi con quelle che arrivano 99, no? Esatto. Perché abbiamo avuto dei dati diversi in questo processo, quindi questi sono quelli ufficiali, diciamo, che lei ha riscontrato formalmente dal suo ufficio di alta dirigenza. Grazie, nessun'altra domanda. Prego, buongiorno. Altri interventi, difensore delle parti civili? Sì, una sola domanda. Sì. Sì, Presidente. Avvocato Daniela Ciancivino, poi parte civile legambiente. Buongiorno, dottoressa Liguori. Lei ci ha detto di essere direttore della seconda divisione del servizio immigrazione, che ha alle sue dipendenze l'NCC, National Coordination Center, dal 26 agosto 2018, dico bene? Ecco, dal 26 agosto 2018, l'NCC, a chi inviava la richiesta di POS? A quale ministero? Ovviamente noi mandavamo al nostro ministero, al gabinetto del ministero dell'interno, ma nell'accordo tecnico che inviava il comando generale del corpo delle campagne di riporto, c'era un indirizzo anche ai gabinetti degli altri ministeri. Sì, dico, voi potevate mandare per conoscenza ai 40, non so, 30 indirizzi che ci ha indicato, però la richiesta di POS che l'NCC riceveva per competenza a chi veniva girata, a partire dal 27 agosto 2018, e se la situazione cambiò, ci dica da quando cambiò. Poi eventualmente io se le devo ricordare, per suo ricordo, quello che ha detto davanti alla procura di Agrigento, glielo ricorderò. Me lo può dire tranquillamente. No, no, l'indica cosa ricorda. Io mi ricordo che noi mandavamo, non per competenza, noi mandavamo al gabinetto del ministero dell'interno, giravamo l'accordo tecnico operativo che arrivava dal comando generale del corpo delle capeterie di riporto. Non ho capito, l'accordo tecnico operativo è cosa diversa dal posto. Io sto parlando del place of safety, cioè la richiesta di porto sicuro arrivava in questo caso dalla Open Arms, quindi dall'ONG che aveva sulla propria barca gli immigrati salvati. Vedo che abbia compreso il senso della domanda e lasciamo rispondere il tema. Allora, la richiesta al mio ufficio, all'ufficio che io dirigevo, arrivava, la richiesta di posto non arrivava direttamente dalla Open Arms, arrivava dal comando generale del corpo delle capeterie di riporto, tramite accordo, si chiama accordo tecnico operativo, nel senso che noi praticamente comunicavamo tra tutte le amministrazioni tramite l'accordo tecnico operativo. Questa richiesta veniva girata dal mio ufficio, dall'NCC, al gabinetto del Ministro. Adesso non ricordo se già all'epoca veniva mandato via mail, comunque noi continuamente ci aggiornavamo tramite questo sistema di messaggistica istantanea. ribadisco che la richiesta che arrivava all'NCC, tra gli indirizzi che già aveva il comando generale del corpo delle capeterie di porto, c'erano anche gli altri cabinetti dei ministeri interessati nell'attività. Quindi c'era la difesa, c'era il ministero degli est, addirittura per conoscenza veniva messa anche la procura di Roma. E quindi il place of safety lo doveva dare il ministero dell'interno, ho capito bene o no? Il place of safety lo doveva dare, lo sbarco dei migranti doveva essere, l'indicazione del porto doveva essere dato dal ministero dell'interno. Perfetto. All'interno del ministero dell'interno, l'indicazione poi finale, la decisione finale, visto che sappiamo tutti, ce ne ha parlato anche lei, che ci fu questa interlocuzione di più giorni, di più scambi, eccetera. Chi la dava? Il ministro direttamente o no? La dava il gabinetto del ministro. Chi lo dava? La persona di chi? Io non lo posso sapere. Sicuramente non ero io a darlo, e sicuramente non era la direzione centrale dell'immigrazione a darlo. Ecco, può dirci se nel gennaio 2019 ci fu qualche cambiamento di impostazione politica in materia di assegnazione del POS? Guardi, allora, l'ho già detto prima, lo ripeto perché probabilmente non sono stata molto chiara. Prima, per quanto riguardava l'assegnazione del POS, noi ci interfaccevamo con il Dipartimento per libertà civile e l'immigrazione, perché nei momenti in cui sbarcano i migranti, quando non sono 5, quando non sono 6, ma ne arrivano 50, 100, c'è tutta una macchina organizzativa estremamente complessa che deve essere messa in moto, ok? E quindi questa macchina complessa veniva affidata al Dipartimento per libertà civile e l'immigrazione, che sono quelli che gestiscono l'accoglienza, ok? Con la drastica riduzione del flusso migratorio illegale via mare nel 2019 e già iniziata nel 2018, con il fatto che comunque la Commissione europea aveva, voleva iniziare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, perché distribuivamo i migranti nei CAS e non negli hotspot, quindi si è deciso che questo passaggio con il Dipartimento per libertà civile e l'immigrazione non venisse più fatto, ma venisse fatto dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione, ok? E quindi nel agosto 2019 l'NCC mandava per la richiesta di POS al Ministero dell'Interno? Al gabinetto del Ministero dell'Interno? Al gabinetto del Ministero dell'Interno, ok? Ma riferisco, questa richiesta di POS mi arrivava dal comando generale delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, e a sua volta, quindi, c'era già nell'indirizzo il gabinetto del Ministro dell'Interno, così come c'era già il Ministero degli Esteri, addirittura il Ministero della Difesa, il Ministero dei Trasporti, quindi a tutti i gabinetti che in qualche modo erano interessati nella gestione dei flussi migratori via mare. Ecco, torniamo un attimo al tavolo tecnico del 12 febbraio 2019 al quale lei ha partecipato, mi pare che è anche, diciamo, redatto il verbale. Sì. Sì, ecco. Io volevo capire, in questo tavolo tecnico, per quello che ho capito io, è stata formalizzata un'indicazione che prima di assegnare il POS occorreva che fossero presi accordi per la distribuzione di migranti dei paesi europei, cioè che dovevano essere trattenuti i migranti sulla nave fino a quando non fossero ricollocati tutti, sì o no, o quello che è successo? Allora, durante il verbale del tavolo tecnico del febbraio 2019 si inizia a, c'è una revisione di quelle che erano le procedure e si dice praticamente che in attesa della redistribuzione dei migranti tra i paesi dell'Unione Europea i migranti possono rimanere sulle navi, quindi si dice praticamente questo, perché la nave, come dice, come ha detto l'ammiraglio Liardo del Corpo delle Capite di Porto, possono essere, ma non come lo dice Liardo, come lo dicono le convenzioni internazionali, in questo caso la convenzione SAR, la Search and Rescue, una nave può essere considerata un posto temporaneo. A quali condizioni una nave può essere considerata un posto temporaneo? Bisogna considerare le capacità, se si assicurano quelli che sono i bisogni primari, quali sarebbero? Beh, quelli di poter dare assistenza, poter assicurare il cibo. Lavarsi? Lavarsi? Igiene personale? L'igiene personale non c'è scritto, però i bisogni primari. E lei ritiene che l'igiene personale sia un bisogno? No, 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 non deve ritenere niente, ha già detto. Va bene. Volevo chiederle, in questo tavolo tecnico lei ha detto che si inserì questa disposizione, chi la inserì? Chi propose di inserire questa disposizione? Anzi, prima ancora, lei ci ha detto che si doveva aspettare, si poteva aspettare nelle navi, che fino a quando non si ricollagassero i migranti. Beh, non è scritto proprio così, cioè non è che è scritto così, che si dice che si avviano le interlocuzioni con gli organismi, si avviano le interlocuzioni, facciamo parlare, si avviano le interlocuzioni con gli organismi europei per la redistribuzione dei migranti, quindi non è che c'è scritto dove dovete stare sulle navi, fino a quando, cioè si dice che si avviano le interlocuzioni per la redistribuzione tra i paesi dell'Unione, tra gli stati membri dell'Unione Europea. E veniva indicato per quanto tempo i migranti sarebbero dovuti rimanere sulla nave fino a quando queste interlocuzioni non fossero portate a compimento o non si diceva niente? Ma assolutamente no, cioè non si dice che possono rimanere due giorni, tre giorni, quattro giorni, cinque giorni. Quindi se queste interlocuzioni duravano 15 giorni, 20 giorni, un mese, quindi era consentito di tenerli nella nave? Non ho capito. Non sono io a dire quanto dovevano durare e come devono durare e perché dovevano durare. Si parla, l'importante è che potevano essere assicurati all'oculare delle persone fino a quando i paesi dell'Unione Europea non davano la loro quota per la redistribuzione. Non si parla né di un tempo minimo né di un tempo massimo. Va bene. Lei sa chi all'interno del tavolo tecnico propose di inserire proprio questo paragrafo, cioè senza dire in quanti giorni che dovevano rimanere nella nave fino a quando non si ricollocavano? Chi? All'interno del tavolo tecnico. Il direttore del servizio, il mio direttore del servizio dell'epoca, il dottor Pisani, ma ovviamente il dottor Pisani si faceva addetto quello che era l'orientamento, che era condiviso da tutti quelli che facevano parte del tavolo tecnico. Ecco perché si faceva il tavolo tecnico. Scusi, il direttore Pisani presiedeva l'incontro? Il direttore Pisani presiedeva l'incontro unitamente al prefetto Parisi e unitamente a tutti i rappresentanti che c'erano intorno a quel tavolo, perché erano i rappresentanti di tutte le amministrazioni. E lei sa su indicazioni di chi il dottor Pisani inserì questo, propose di inserire questo paragrafo? Era una cosa di cui discutevamo tutti quanti, cioè non è che il dottor Pisani... No, perché allora le devo contestare. Facciamo parlare, Presidente. Sì, stavo terminando la risposta. Sì, mi scusi. Il dottor Pisani, non so per nome e per conto, cioè è una cosa di cui... lo potete chiedere al dottor Pisani, ma era una cosa di cui discutevamo appunto con tutti quanti gli interlocutori del tavolo. Allora, Presidente, io vorrei contestare dal verbale di SIT del 1 ottobre del 2019 della dottoressa Riguori davanti alla procura di Agrigento a Roma. Su domanda della procura, chi nel tavolo tecnico propose di inserire il paragrafo sopraindicato? La risposta è, ricordo che fu il direttore generale Pisani che presideva l'incontro, ritengo, su indicazione del gabinetto del Ministero degli Interni. Lei lo ricorda? Cioè, voglio dire, io non... Qual è il problema? Sinceramente non si riesce a cercare di raccontare. C'era stata un'indicazione che proveniva dal Ministero degli Interni di inserire questa, diciamo... Ma una redistribuzione... Attenzione, intanto ha usato l'espressione ritengo, e quindi nel chiarimento questo ritengo che cosa... Io penso che per decidere la redistribuzione dei migranti all'interno dell'Unione Europea ci siano anche delle interlocuzioni con gli organismi comunitari per discutere di questo. Non è che uno una mattina si sveglia e decide... Aspettiamo, ci sono delle interlocuzioni, ci sono tutte delle procedure, dei negoziati per arrivare a poter prendere una posizione del genere. Quindi lo do prescontato che siano i gabinetti che parlino con gli organismi europei per arrivare a la redistribuzione. È una sua deduzione, comunque. È una sua deduzione. Sì, è una mia deduzione, però in base all'esperienza penso che sia abbastanza scontato, insomma. Però... Sì. Io non rinego niente di quello che ho detto. L'ho detto perché ci mancherebbe altro. Era per ricordarglielo. Cioè, diciamo che forse l'ho dato per scontato, insomma. Aveva questa impressione che nasceva dalla sua esperienza. Allora, le volevo chiedere ancora e finiamo, cioè, finirei qui. In quella sede, quindi, nella sede del tavolo tecnico, fu detto... Questa è in realtà una domanda che le pone la Procura, ma gliela pongo pure io. In quella sede fu detto cosa si intendesse per articolazione del Ministero degli Interni, che è una forma un po', diciamo... Ecco, fu detto... Fu esplicitato... Cosa si intende articolazioni? Sì, ai fini del fatto che era il Direttore Generale che presiedeva l'incontro su indicazione del Gabinetto del Ministero degli Interni. Cosa si intendeva per articolazione del Ministero degli Interni? Articolazione, quindi... Le varie articolazioni, quindi anche il Gabinetto del Ministro? La Secretaria del Dipartimento? Ecco, la sua risposta è un po' più precisa. La risposta è... Era chiaro per i partecipanti che si facesse riferimento al Gabinetto del Ministero degli Interni, perché era chiaramente l'autorità politica che ha la gestione del fenomeno dell'immigrazione, ritenendo un maggiore coinvolgimento e condivisione con l'autorità europea. Quindi si faceva riferimento all'indirizzo politico del Ministero degli Interni. Nell'immigrazione, glielo do per scontato, che l'immigrazione è determinante la politica dell'immigrazione. Infatti si parla di politica dell'immigrazione, quindi lo confermo assolutamente. Non ho altre domande. La difesa dell'imputato? Avvocato Giulia, buongiorno. Per concludere intanto su questo famoso resoconto del 12 febbraio del tavolo tecnico. Quindi due punti essenziali. Allora, il primo, che ricordava prima la concessione del posto senza ritardo, per posto si intendeva anche la nave come assetto temporaneo. purché ci ripete le condizioni per favore fosse garantito cosa? Tutte le condizioni primarie, quindi cibo, assistenza sanitaria, le cure mediche. Questo cibo e assistenza sanitaria poteva anche essere fatto tramite delle imbarcazioni che facevano spola, ad esempio, da terra all'assetto navale? Assolutamente sì. Cioè, l'assistenza in senso lato chiunque la fornisse, sia all'interno della nave che all'esterno della nave. Seconda domanda. Sempre in questo tavolo c'è un intervento del Dottor Pisani che fa riferimento al fatto che lo sbarco è inevitabilmente determinato non solo dalle valutazioni del Ministero dell'Interno ma anche dalle interlocuzioni governative con gli organismi europei. Ricorda questo passaggio e che cosa significa? Lo ricordo ed è quello che ho detto prima che appunto ovviamente per parlare della ridistribuzione dei migranti non ci si sveglia la mattina ma sono necessarie le interlocuzioni con organismi dell'Unione Europea infatti veniva interessata all'epoca anche la Presidenza del Consiglio il Ministro degli Affari Esteri e così via. Lei ricorda che proprio per questa procedura cioè di coinvolgimento dei Paesi europei era stato stabilito tra l'altro che l'assetto navale potrà essere ritenuto post-temporaneo in attesa di queste risposte degli organismi europei? Esatto. Va bene. Passiamo proprio invece all'evento evento 1 agosto Open Arms questo lei ha detto ok non c'ero ma ho letto il fascicolo vorrei sapere se dal fascicolo le risultano alcune indicazioni intanto le risulta che partiva da Siracusa con destinazione Lampedusa e se siete in grado di ricostruire per quali ragioni questa Open ha cambiato rotta? Le ragioni bisogna chiederle all'Open Arms quindi non posso saperle io sinceramente. Ma ci sono elementi che indicano che cambiò rotta sulla base di qualche indicazione da parte di qualcuno? Allora io sinceramente questo non lo ricordo e non lo so sicuramente è andata l'Open Arms anziché andare a Lampedusa è andata in acqua serlibiche come si rileva anche dall'AIS che è un sistema di rilevazione del tracciamento che condividiamo col comando generale del corpo delle capoline di porto Si rileva cosa? AIS il tracciamento della nave Si rileva cosa? Il cambiamento di rotta? Esatto Le chiedeva prima un avvocato di parte civile se gli eventi vengono considerati come vengono qualificati gli eventi in particolare lei ricorda se questo evento venne classificato tra quelli di immigrazione clandestina? Si ma sulla base di quali elementi? Allora io come ho già detto prima se non si tratta di eventi di search and rescue di soccorso non esiste una qualificazione diversa o di search and rescue o immigrazione illegale quindi la differenza è questa l'autorità che può dire se si parla di soccorso e questo si può leggere in tutte le convenzioni che riguardano questa materia l'unica autorità che può dire se un evento è di soccorso è il comando generale del corpo delle capitane di Porto ricordo che a noi arrivavano l'accordo tecnico operativo con evento di immigrazione illegale e tra l'altro per quanto riguarda la prima imbarcazione dall'esame degli atti ricordo che è avvenuta in acque sarlibiche a circa 76 miglia tra l'altro dalla Tunisia quindi l'altro paese più vicino alla Tunisia ricordo che c'era stato della stessa imbarcazione erano state avvistate tre imbarcazioni di cui due vennero recuperate da una motovetetta libica la Fesan e perché noi avevamo praticamente esisteva la missione Una4Med che aveva avvistato questi tre barchini e di cui quello recuperato dall'Open Arms che era stato avvistato anche da questa missione aerea era Una4Med aveva andato il messaggio la segnalazione che si trattava di un barchino blu in buone condizioni di alleggiabilità con due motori e che le condizioni del mare erano forza 1 forza 2 quindi il mare è totalmente caldo quindi ricorda l'indicazione di buona galleggiabilità quello che ha letto l'ha scritto Una4Med l'ha scritto l'ha scritto l'aereo che ha avvistato il barchino senta lei ha conoscenza per caso dell'esistenza di attività fatta da un sommergibile di nome venuti che ha fatto dei video nei confronti non ero presente non sono a conoscenza di questa è un seguito di dire ma sul quale non mi sento di riferire quello che posso riferire è che c'è oggettivamente un avvistamento fatto da una nave da un aereo in missione che vede questa barca alla stessa latitudine e longitudine in cui è venuto il recupero da parte della Open Arms che era in buone condizioni di alleggiabilità con due motori a bordo e con delle persone a bordo ma lei sa che quindi mi diceva che la Libia con stava coordinando sì due dei tre esatto e il terzo invece è stato con la Fezzan come si chiamava Fezzan era la monodetta ecco e Open Arms attese il coordinamento della Fezzan no non lo attese tecnicamente si chiama come quando una ONG non attende il coordinamento come si chiama non rispetta le regole stabilite dalle convenzioni in materia di ricerca e soccorso perché la convenzione prevede praticamente che si avvisa l'autorità competente e in questo caso e non che non si provveda direttamente al recupero dei migranti lei sa che poi ci fu un terzo salvataggio e rispetto il terzo evento chiamiamolo sa che ci fu una delle interlocuzioni con Malta sì sono a conoscenza che cosa sa di questo terzo evento questo terzo evento era stato coordinato da Malta e Malta aveva mandato l'energia open house quindi le regole erano della convenzione erano state rispettate Malta quindi avendo coordinato l'evento aveva previsto di recuperare di riprendere i 39 migranti perché in base alle convenzioni internazionali erano loro lo stato competente a indicare il place of safety per questi migranti però praticamente il comandante della nave non ha mitigato le eventuali esigenze che c'erano a bordo della nave consentendo lo sbarco di questi 39 migranti ma li ha tenuti sulla nave ma un comandante ha il dovere di consegnare i migranti allo stato che coordina secondo le convenzioni il comandante deve interessare sicuramente lo stato dell'area geografica competente per quanto riguarda la ricerca e il salvataggio e deve sbarcare i migranti senta ma lei ha per caso avuto notizia del fatto che questi migranti poi sono stati intervistati da qualcuno sì i migranti vennero tutti quanti intervistati dal mio personale che era dal personale che dipendeva appunto dal NCC dalla cosiddetta task force composta da poliziotti italiani e stranieri sono stati intervistati sì e questi migranti volevano andare a Malta sì volevano andare hanno detto che le procedure per la richiesta di protezione internazionale erano più veloci in Italia il comandante quindi le ragioni per le quali questo hanno dichiarato alcuni migranti i migranti hanno dichiarato che il comandante aveva detto loro aveva detto per cercare di calmare di stare la situazione perché alcuni volevano sbarcare a Malta che le procedure per quanto riguarda la protezione internazionale erano più veloci in Italia ma qualcuno dei migranti ha fatto mai cenno a pagamento di somme di denaro per raggiungere l'Italia a cifre di 2000 euro per pagare qualcuno ma per pagare il viaggio sì per pagare il viaggio sì i migranti pagano ma volevo sapere una cosa queste dichiarazioni dei migranti sono nel suo fascicolo possono essere le dichiarazioni dei migranti ci sono chiaramente sono nei fascicoli possono essere richieste non ce le ho io ma se si richiedono alla direzione centrale dell'immigrazione si possono avere queste dichiarazioni dei migranti ma queste dichiarazioni non sono mai state trasmesse alla procura della repubblica non c'era una notizia di reato quindi non vengono trasmesse perché noi facciamo analisi quindi io faccio analisi dei flussi non non c'erano dichiarazioni tali per cui bisognava insomma il fatto che i migranti paghino per venire in Italia questo mi sembra abbassato pagano le organizzazioni criminali questo mi sembra scontato quindi i migranti pagano delle organizzazioni criminali pagano le organizzazioni criminali per giungere in Italia assolutamente sì quanto pagano la cifra è variabile a secondo del viaggio a secondo della sicurezza ci sono tantissimi fattori che ci sono sul prezzo ma specificamente il viaggio di open arms quanto si pagava Presidente c'è opposizione di che stiamo pagando non ha mai detto che pagava non credo il viaggio di open arms non credo che abbia detto questo il viaggio per arrivare al barchino che poi fu preso da open arms ma perché il test dovrebbe avere queste informazioni c'è opposizione perché è tendenziosa la domanda la domanda può essere posta nei termini in cui gli apposti il viaggio per per arrivare al luogo dove sono stati poi presi da open arms o comunque il viaggio per arrivare in Italia chiamiamo il viaggio per arrivare in Italia senza dire la parola open arms quanto fu pagato sinceramente non lo ricordo il prezzo adesso non lo ricordo però lo troviamo se chiediamo l'acquisizione di queste assolutamente sì so se ci sono invece delle informative fatte da anche da da altri ministeri su eventuali anomalie di open arms e lei ne è mai venuta a conoscenza ha preso parte a riunioni ha letto questi documenti ne ha sentito parlare ne ho sentito parlare ma non sono in grado di rispondere ci hanno sentito parlare così insomma però non ho approfondito l'argomento come dire ho capito non ho approfondito ma che cos'è che ha saputo non è chiaro che cosa ha chiesto lei io ho chiesto ci sono informative ci sono informative contenenti anomalie ma dove ma dove ci sono ho chiesto e a conoscenza di informative in cui vengono elencate le anomalie eventuali di open arms ah ecco questo già è un pochino più specifico presidente mi perdoni io dico almeno per la formalizzazione dell'opposizione poi se il tribunale l'accoglie consente la domanda bene vorremmo quanto meno la parola anomalie non ha alcun tipo di tecnicamente io non la comprendo almeno temporalmente relativa a che cosa in quale contesto parliamo se è un'anomalia della nave se è un'anomalia del comportamento di violazioni normative vogliamo anche comprendere vagamente anche le date temporali dobbiamo perimetrarle in qualche modo anche la domanda intanto vediamo se ha conoscenza poi saremo più precisi no mi perdoni allora glielo dico prima presidente se è più precisa dopo se lo sa prima la domanda ha messo il test è in condizione di rispondere prego guardi io ho sentito che ci doveva essere un'informativa ma sinceramente non l'informativa per quanto riguardava appunto questo fatto del sommergibile ma sinceramente ero in congedo e quando sono tornata abbiamo avuto altri problemi per cui non l'ho approfondito quindi non sono in condizioni di poter rispondere se c'è stata o meno un'informativa ho finito dei migranti ma lei si riferisce a dei verbali di sommare informazioni o ai famosi questionari frontex diciamoli così i famosi questionari frontex vogliamo precisare cosa sono questi questionari frontex perché finora sembravano dei verbali di sommare informazioni i limiti di utilizzabilità come vengono resi la modifica normativa che c'è stata sull'utilizzabilità perché diciamo se si parla di un argomento è giusto precisarlo sono i verbali di sommare informazioni assolutamente no noi facciamo analisi l'ho precisato prima per cui i migranti nell'immediatezza dell'evento di sbarco ci raccontano più o meno quello che hanno pagato come è andato il viaggio fanno delle dichiarazioni e queste dichiarazioni noi le utilizziamo per l'analisi dei flussi ok le trasmettete in procura sono nominative o sono con dei codici identificativi da cui non si riesce a evincere neanche il nome di chi le ha rese perché sono rese come dice lei ad altri fini e nell'ambito di altri progetti comunitari sono prese nell'ambito dei progetti comunitari no però il nome in alcuni casi prima nel 2019 veniva preso perché appunto c'era una normativa diversa e quindi si risale al nome e al cognome però non sono utilizzabili per quanto riguarda appunto non vengono trasmesse in procura perché nel luogo di sbarco che ribadisco è una macchina estremamente complessa ci sono anche i poliziotti personale della Digos perché negli sbarchi potrebbero essere delle infiltrazioni terroristiche e invece per quello che riguarda proprio la possibilità di individuare gli eventuali scafisti o gli organizzatori c'è un team che è composto da persone della squadra mobile che opera anche sotto il coordinamento di Europol quindi le nostre sono analisi che servono per capire l'andamento del flusso migratorio quella è la situazione del paese di origine hanno una funzione diversa e vengono prese sotto legge dell'agenzia Frontex oggi sono rese in forma anonima invece guardi ora non sto più alla direzione centrale dell'immigrazione ovviamente se nell'ambito di questi questionari come dice lei c'è il personale della squadra mobile e c'è il personale della DIGOS emergono degli elementi di reato specifici vengono trasmessi in procura per l'adozione dei provvedimenti di conseguenza nel momento in cui ci sono elementi che possono confidare un reato si reagisce immediatamente con la squadra mobile con la DIGOS e loro pensano provvedono a redigere la comunicazione di reato l'informativa che va all'autorità giudiziaria grazie dottoressa prego una sola domanda anch'io no non credo sia il suo testo è anche il mio testo è anche il nostro testo sì 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 le volevo chiedere questo lei dice che sulla base delle indicazioni fornite dall'MRCC diciamo dal centro di coordinamento l'episodio cioè l'operazione di Open Arms viene definita come immigrazione clandestina ma come mai se lei lo sa diciamo invece nel decreto interministeriale del primo agosto viene detto rilevato che da informazioni acquisite dal centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo risulta che la nave Open Arms è imbarcato le persone a bordo di una tante in distresse in area sar libica perché lei ci dice invece che abbiamo avuto notizie diverse quando perché quando mandano l'accordo tecnico loro praticamente trasmettono quello che è dichiarato la nave che è effettuato il recupero o il soccorso presidente un'ultima domanda è anche un mio test avvocato Daniele Giancimino dottoressa una precisazione lei ci ha detto nell'ultima risposta penultima che non è più direttore della seconda divisione del servizio immigrazione oggi ci può dire dove svolge la sua attività sì a Milano centro operativo per la sicurezza cibernetica polizia postale e delle comunicazioni grazie buongiorno sì vorrei fare una domanda anch'io avvocato Nicoletti della parte civile lei poco fa rispondendo a una domanda dalla difesa ha detto che le risulta che alcuni migranti che erano stati recuperati durante l'intervento coordinato da Malta volevano sbarcare a Malta sì così hanno dichiarato sempre in quel contesto mi scusi può fare dei nomi e dirci sulla base di quali elementi lei è in grado di dire che questi erano migranti che erano stati prelevati nel corso dell'intervento coordinato da Malta come fa a fare un'affermazione così precisa c'ha dei dati per dirlo oppure allora i dati li posso produrre chiaramente comunque non rispondo perché la domanda non la ritengo rilevante avvocato abbia pazienza sul fatto che i migranti volessero andare a Malta piuttosto che in un altro posto non è no però la rilevanza è perché se c'è un intervento SAR coordinato da Malta e ci ha spiegato poco fa la dottoressa che i migranti recuperati nel corso di quell'intervento dovevano essere sbarcati a Malta ecco se ci sono migranti che fanno parte di questo gruppo che avevano espresso la volontà di sbarcare a Malta e non sono stati sbarcati a Malta penso che sia importante saperlo ugualmente non lo ritengo rilevante ci sono altri interventi no si è nella mia lista beh certo mi dispiace darle questa notizia ferale ma è una sola domanda ci furono fermi alla fine di questa quando sbarcarono i migranti ne sa nulla sinceramente non lo ricordo grazie va bene il collegio non ha domande da porre possiamo congedare il test grazie una buona serata grazie presidente per la produzione dei documenti dei precedenti testi io non li ho ordinati posso farli avere ordinati in cancelleria grazie dunque per la prossima udienza che informo sarà il 13 gennaio 2023 sì presidente noi vorremmo citare Conte Lamorgese e Di Maio Conte Lamorgese e Di Maio quindi numeri 21 22 e 26 della lista testi del pubblico ministero vabbè do anche presidente ma c'è già delle idee per il calendario successivo do notizia di quelle che sono le udienze individuate sulla base della disponibilità dell'aula e naturalmente della disponibilità del collegio presidente soltanto una cosa il 13 gennaio sì ma è un venerdì sì sono tutti venerdì questi l'unico problema è che c'è che abbiamo al Senato l'elezione dei membri del CSM e credo che sia indispensabile la presenza di entrambi però però presidente ci può dare cinque minuti che verifichiamo questa notizia se no facciamo il 13 via perché se non cioè solo questo l'impedimento però mi sembra strano di venerdì perché non le fa infatti può essere che è un errore quindi se va bene non ci ricordiamo se il 3 c'è il 17 un attimo che verifichiamo è un'altra cosa che due di queste date molto probabilmente non potranno essere utilizzate perché il componente del collegio sarà impegnato in un processo con imputati e sottoposta a misura cautelare per reati di mafia se cortesemente ce le può ridare quelle date allora è probabile il 17 non più 13 quindi va bene ci può ridare il presidente cortesemente l'elenco delle date allora il 13 gennaio e quella prossima poi abbiamo il 24 febbraio 24 marzo 21 aprile 5 maggio 9 giugno e 7 luglio ma mica arriviamo a luglio chiediamo prima presidente non vada così noi anticipiamo che realisticamente potremmo già rinunciare rinunceremo sicuramente ai rimanenti testi ora li valutiamo perché già abbiamo giusto l'anticipiamo questa scaletta di udienze e poi tanto l'udienza del 24 febbraio e quella del 21 aprile è da confermare quindi per ora il 13 gennaio possiamo andare tranquillamente per l'esame abbiamo detto dei testi Conte, Di Maio e La Morgese e per il conferimento dell'incarico al perito Giacomo Bellomare credo che non ci sia altro possiamo allora ho capito bene però forse l'avvocato li ha ascoltati questi presunti messaggi testi comunicazioni radio sono i link e per l'esame